eccoci ci siamo tutto è andato è arrivato proprio in calcio sono arrivato tra l'altro stavo sistemando cose di audio perché poi si li vedevo preso noi diciamo una serie di fesserie ero un po' preso da mille cose spero di averle in realtà non erano problemi erano semplicemente dei miei dettagli che devono essere a posto spero esatto esatto dateci info su come vanno gli audi come vanno tutto bellissimi bellissima gente quanta gente che in realtà è qua ma soprattutto ciao destroyer come va come va siamo riusciti a partire dopo 30 secondi di tentativi che non voleva partire quindi siamo anche stati fortunati che alla fine la live è partita twitch è un giorno particolare per twitch eh si twitch oggi che è quel periodo periodo dell'anno niente ti è morto già anche lì mi sono andato a prendere il tiradadi giusto oh i dadi aspetta come mi ho parlato per mezz'ora per preparare ora usi l'app niente su 7GWord si diranno solo i D6 giusto no? no dipende dal tuo dado più un D6 ah è vero c'è ragione vabbè io mi ho messo tutti i D6 esatto e niente siamo qui per per iniziare questa one shot vedete ovviamente come l'avete letto visto l'ho anche annunciato prima il nostro ospite RepGDR ciao ciao a tutti ciao poi abbiamo invece il resto ospite ospite insomma è qua è qua perché deve appena ci vediamo gli diamo anche la maglietta quindi ci vediamo a Luca oh che bello si 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 poi avrete sto giro per la prima volta da sempre in realtà come host master sono io eternal ciao a tutti è vero è prima volta come master effettivamente ma io l'ho avuto prima di voi ma perché l'abbiamo prima fatto te l'abbiamo fatto prima con l'autario certo per testare ci ha servito ci ha servito per far un po' dargli un po' di ruggine poi abbiamo la nostra miscroft hello abbiamo Giacomo buonasera buonasera e andrà sus che ormai siete stanchi di vedere sì prima poco niente adesso adesso ovunque bene facciamo una piccola premessa sui temi di one shot e poi andiamo nel vivo promesso anzi in realtà prima ancora di andare nel vivo prima ancora di parlare della one shot vi ricordo che ancora per poco 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 è il sub tender quindi se avete voglia di risparmiare qualche soldo e aiutarci sapete come sapete di poter fare la sub relativamente ne approfitto lo dico perché so che c'è c'è anche l'abbonamento regalo costa 25% in meno quindi se siete già sub potete regalarla a qualcuno se volete e poi c'è sempre amazon prime esatto amazon prime sempre gratuito tra mille virgolette cioè paghi l'affide di amazon prime però dopo hai il token gratuito da regalare da utilizzare su un canale quindi se siete se noi siamo il vostro canale preferito aiuto in più non ci fa male però assolutamente ci saranno tante tante novità big news big news assolute detto questo entriamo nel vivo almeno nel vivo nel preinizio di questa di questa live di questa one shot perché voglio un attimo prima spiegare cosa andremo effettivamente a a vivere diciamo così perché potrebbe diciamo non essere per tutti e spiego il perché perché è un po' horror non è un horror pesante non ci sono splatter non ci saranno monoponi giganteschi però è un horror psicologico abbastanza triste metto questo e metto anche è una cosa tranquilla è una cosa effettivamente tranquilla metto anche le mani avanti perché andremo indietro nel tempo torniamo nei mitici anni 90 in realtà nel 1999 e quindi ci saranno avvenimenti ci saranno citazioni a fatti realmente accaduti ma ricordo che è un gioco di ruolo quindi anche se siamo nel passato è comunque assolutamente inventato non è non è speculazione roba del genere è semplicemente un un filo conduttore per far andare avanti la storia niente di più posso fare una domanda certo prima che andiamo avanti quanti in live in questo momento tra noi hanno vissuto gli anni 90 è un cazzo sono gli temi già ok perfetto qualcosa io tu di che anno sei Giacomo 93 ah beh dai dai già venite gli e miss pensavo intendeste da vabbè ci siamo nati dai ci siamo nati in realtà in realtà in questo momento miss e rape sono già nati eh sì è quasi è quasi un piccolo rape sta per fare un anno Emilia dice appunto presente quindi abbiamo anche già un qualche pubblico che era presente in quegli anni assolutamente un po' un po' oltreoceano però c'ero ah sì sì oltreoceano sì proprio su tutti quello beh sì credo che nessuno sia nato in America ma infatti dato che questo grandissimo lancio lo raccolgo e racconto un po' l'ambientazione siamo nel 20 gennaio 1999 a New York è un momento New York che sta passando relativamente difficile perché c'è una grande tempesta di neve o comunque di temperature basse è così da verso tempo principalmente le peggiori situazioni con neve veramente altissima a livello di metratura e temperature molto basse sono più o meno da 20 giorni quindi dall'inizio dell'anno ad adesso sono 20 giorni che fa addirittura alle volte meno 20 gradi questo dà qualche problema a soprattutto il carico energetico quindi ogni tanto salta la corrente ci sono blackout e poi andremo a vedere chi sono questi ragazzi e perché stanno sono lì e cosa stanno facendo però questo è l'incipit io direi che se non c'è altro possiamo iniziare dovete aggiungere qualcosa siete pronti a divertirvi sì signor capitano yeah siamo super belli e super fighissimi infatti sempre in modo assurdo beh c'hai qualche dubbio giusto sciocco io mai nella vita che domande faccio anche partire la music mi prenderò un attimo per cercare di regolare infarto infarto così giusto sì che cazzo era ah sì vabbè è un horror quindi in realtà ci stanno iniziamo bene ci stanno ok dovrebbe andare bene se è troppo troppo bassa ditemelo però dovrebbe andare bene anche a me non parlavi con loro non parlavi con noi vabbè noi possiamo regolare esatto voi potete regolare è vero è vero è vero non ci pensavo io non ci sono andato adesso ci vado ah ok ok non ti ho perso il link c'è problema bravo allora non è colpa di rebe esatto sempre allora iniziamo iniziamo appunto a nero non vediamo assolutamente niente per poi vedere la telecamera che si alza un po' e vediamo da una grata di quella che potrebbe essere una fognatura seguiamo in alto per vedere questo fumo che esce dalla grata e far notare quanto effettivamente faccia estremamente freddo in questo periodo andiamo proprio a volo di uccello per vedere la città ricoperta completamente ghiacciata con veramente poche persone in giro a cercare di sopravvivere al freddo anche se in realtà il tempo è abbastanza benevolo nel senso che nevica ma molto leggermente quei piccoli fiocchi quasi romantici se non fosse che tutto è praticamente ghiacciato macchine completamente ferme e chissà se poi ripartiranno dopo dopo tutti questi di questi tempi e pian piano andiamo a zoomare verso il gruppo di ragazzi che sta incamminando lentamente su un pub in realtà è più tipo tavola calda e mentre stanno effettivamente aprendo la porta per entrare possiamo leggere il nome del locale 51 o 51 in inglese questo sappiamo che per il che ha costruito diciamo il locale era un immigrato degli anni 50 lui è arrivato appunto in America nel 51 e come suo sogno ha aperto questo pub dinner tavola calda e quindi è rimasto il nome 51 per i sogni di libertà e opportunità dell'America nel frattempo vediamoli correre dentro il locale e noi facciamoci un piccolo giro vediamo appena entrati sulla nostra sinistra c'è una piccola ma abbastanza compatta sala giochi con un tavolo da biliardo con qualche freccette e dei vecchi in realtà per l'epoca moderni flipper davanti a noi invece troviamo un piccolo corridoio con subito lì davanti un telefono a gettoni e un calendario appunto il calendario che parla del questo giorno del 20 gennaio 1999 giriamo a destra e vediamo questo bancone in mogano bellissimo immenso che quasi copre per quasi metà della stanza e delle panche e delle dei tavoli verso la parete e verso la vetrina in fondo in fondo vediamo un piccolo bagno un piccolo zona di per ristoro diciamo così e il resto è completamente pieno sentiamo già qualche brusio di gente e finalmente ci arriviamo a questi ragazzi che si stanno per sedere e già subito inizio a chiedere qualcosa in particolare e chiederò dove vi siederete e inizierò con il primo arrivato che magari si vuole sedere che il primo è entrato e di conseguenza il primo che si vuole sedere si vuole sedersi con il volto riverso la porta d'ingresso e vicino alla vetrata io a caso allora io se posso se il master lo consente come si dice sempre sento tutto io ok io starei sul palco una parte rialzata suonare intrattenere le persone che sono sul sul nel locale ok ti dico che al momento c'è abbastanza folla e non c'è un vero palco rialzato c'è un modo di farsi più notare sulla sala giochi mi metto su una sedia mi metto su una sedia ok giusto per intrattenere e alledare un po' l'animo della gente mi metto a cantare a suonare ok allora Lucy dato che voglio un attimo staccarti dal gruppo ti descrivi ok allora Lucy Belmore è una ragazza giovane di studia qui nella New York University nel Green Village di Manhattan giurisprudenza questo lo fa per far contento il padre che è un grande la famiglia di Lucy è molto benestante se non vogliamo dire milionaria perché il padre è il cofondatore di uno studio legale molto importante qui a New York ma lei il suo sogno è tutt'altro è dedicarsi al canto alla musica alla sua passione più vera ma per non derudere il padre questo conflitto questo diciamo conflitto che ha con lui cerca di comunque farlo contento e quindi in segreto coltiva questa passione e quindi ogni tanto viene qui al locale per strimpellare e cantare per quello che può è una ragazza molto timida sensibile una bella ragazza ma che non non si cura molto nel senso del suo aspetto fisico infatti si veste sempre di abiti molto maschili quindi che può essere una felpa un jeans un po' largo e questo siamo a qualcun altro allora qualcun altro dove si vuole sedere verso diciamo il bagno o verso la porta e soprattutto più verso il corridoio o più verso la vetrina o volete stare tutti intorno a Lucy e creare tipo un gruppetto a fare tipo i fan robin loxter controlla un po' quando entra nel locale 51 e molte volte è abbastanza alto e deve stare sopra la maggior parte della folla alto magro di noccolato vestito di nero con un caschetto di capelli neri molto molto precisi con una ridicola frangia che gli arriva poco sopra le sopracciglia ha diverse catene tutto quanto attorno unghie nere e a testa bassa con le cuffie nelle orecchie non sta ascoltando Lucy e si mette semplicemente vicino alla vetrina dove immagino da quanto ho capito descrizione è più lontano dalla folla mi è perso di capire sono praticamente ogni tavolo è isolato dalle varie panche quindi ovviamente più stai vicino alla vetrina e più sei distante dalla gente perché c'è il corridoio che comunque la gente passa però io mi metto silenzio vicino alla vetrina guardo un po' gli altri in un attimo poi tiro fuori il tacquino comincio a guardare la gente attorno e in particolare master faccio molta attenzione come tutti i giorni che vengo qui all'oste viene a dire al barista del locale che suppongo sia il proprietario anche o sento qualcuno che ci lavora qui non lo sapete con certezza perché è sempre stato molto vago sembrerebbe il nuovo effettivamente proprietario però non l'ha mai detto con orgoglio quindi ci puoi mettere delle teorie comunque tutti quanti i miei amici amici magari gli altri considerano Robin amico non so Robin è un po' più restio a chiamarli tali non perché non li vorrebbiamo più perché non si ritiene adatto alla cosa però sapete comunque che Robin è un estremo appassionato e anche un po' fissato di paranormale sia di alieni sia di fantasmi e queste cose che riguardi ciò che non è spiegato è un praticamente un futuro premio nobel della fisica praticamente un genio a scuola studia la fisica alla columbia ed è assolutamente incapace di parlare con la gente ed è spesso molto molto introverso chiuso e in questo momento sta studiando Lost come fa sempre e sapete perché qualche volta una parola è scappata che ha qualche sospetto visto il nome del locale sulla natura del suo proprietario e quindi è lì nell'angolino per andare a punta così in movimento prossimo che si vuole sedere io mi vado a sedere vicino devo vedere la porta no devo vedere la porta comunque devi vedere la porta ok c'è il posto allora vicino al corridoio vicino appunto a Robin quindi dovreste essere seduti vicini se ti va bene vedere verso la porta per me non è un problema non so se è un problema per Robin so che comunque non è che ci schifa come amicizia quindi non è che mi caccia fuori dalla sede poi a calci via quindi mi metto lì lo lascio prendere i suoi appunti perché già so quindi vedete avvicinare Catherine Jones che bene o male un po' tutti la conoscete ma la presento alla chat quindi è una ragazza nera che giocava alla squadra femminile di basket della scuola ma che non la frequenta più perché per motivi economici ho dovuto abbandonare la scuola e fare un po' tutti i lavoretti infatti tutti lì la conoscono perché bene o male o consegna tutti i giornali al mattino o comunque fa qualche lavoretto in qualche bar in giro cioè quindi è sempre lì tutti sanno che comunque è lì che la fa tutti i lavori possibili immaginabili si serve è vestita sempre in modo sportivo perché comunque la scuola le ha permesso di frequentare la squadra di pallavolo perché comunque era brava nello sport quindi le hanno dato questa concezione concessione non sa neanche l'italiano giustamente non le interessa nulla che l'estetica femminile cioè l'unica cosa che tiene è alla cura dei suoi capelli infatti ha sempre un cappellino per non far vedere il fatto che comunque almeno i capelli si ritinge di recente ha cambiato colore un po' come ce li ho io in questo momento e tiene sempre piastrati l'unica cosa che cura è quello esteticamente il resto è sempre vestita sportiva non l'avete mai vista vestirsi elegante o altro vita sua è neanche truccata Brandon sei l'ultimo dove ti vuoi sedere? Brandon è ovviamente sbaccato sul sul lato opposto dove sono seduti appunto Robin Katrin è sbaccato e sta battendo con la mano sul 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 punto sul i sedili immagino si possiano in pelle e sta battendo con la mano a tempo di di musica e Brandon è il il classico giocatore di football cioè lui proprio lui ha la divisa proprio del appunto di football della del college proprio di New York ed è grosso è veramente è molto molto largo e spesso e ha appunto questo viso molto squadrato un bel ragazzo fondamentalmente occhi azzurri capelli biondi super super ingellati super tenuti bene ed è lì che si gode la la musica ma non facendolo troppo vedere cioè lui lo fa con disinvoltura però cioè non vuole troppo che non si mette lì a festeggiare o a fare o simili però tranquillo sbaccato che guarda gli altri due lì che sono un po' più e nel frattempo dà un occhio a a Lucy per vedere quando finisce così magari ordiniamo da bere e sapete che il locale è sempre pieno e che nonostante tutto trovate sempre posto per qualche strano motivo ma in realtà avete la vaga idea del perché sapete che una cameriera anzi la cameriera si ha un po' preso a cuore ci passate spesso ci passate da mesi e mesi in questo locale però col fatto che inizia a essere freddo che insomma il rischio di rimanere senza senza riscaldamento è serio passare un po' di tempo insieme divertirsi soprattutto al caldo senza rischiare di di congelare è assolutamente un ottimo motivo per stare insieme e da quando appunto siete praticamente andati ogni giorno vi ha sempre visti siete così teneri così carini nei suoi occhi e di conseguenza diciamo che i suoi magheggi per tenervi il posto lo trova sempre e intanto che appunto parliamo di lei arriva si chiama Nancy ve la ricordate perché la conoscete benissimo e se vuole qualcuno però può descrivere altrimenti io scegliete voi vadi vadi master vadi vadi master ok è una donna di mezza età diciamo sui 45 anni capelli biondi però in realtà sono tinti si nota ogni tanto la ricrescita nascosta da un cappellino e dal suo vestita con vestita da lavoro diciamo e comunque si tiene abbastanza bene magari ogni tanto la vedete un po' stanca soprattutto con gli occhi ma è sempre calorosa e sempre gentile infatti su da voi e fa ma cari ragazzi ma finalmente quasi quasi mi aspettavo di non vedermi ma sono felici guardo un attimo ma Lucy non c'è no scommetto si gira verso appunto dove Lucy sta strimpellando e fa lo dovevo immaginare dovevo immaginarle che se non è qui con voi è sempre lì a fare un po' di spettacolo ragazzi cosa vi posso portare domanda master noi siamo tutti sui 21 anni tipo da ordinare da bere da poter ok si puoi si puoi anche poi ok Nancy tesoro come stai come è andata la giornata come sta procedendo della settimana durissimo in fondo c'è sempre pieno però dai vuol dire che se è pieno di solito ci sono anche bei guadagni poi io di solito non li vedo perché sai come è cameriera va sempre un po' a spicci insomma però dai si va avanti si va avanti ma poi tra l'altro vedo qua ti indica un pinnopi indietro e fa c'è anche la partita del super bowl dell'anno scorso non so se vuoi vederla però da questa posizione è un po' più difficile dovresti un attimo avanti di più però tanto l'avrai sicuramente vista vista e rivista esatto quindi ormai ha senso no 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 infatti per me una birra bionda grazie ti porto qualcos'altro da mangiare anche magari ma che ore sono master domanda giusto la sera abbastanza presto dalle sette diciamo ok ma due patatine così giusto per sicare un po' bene catherine robin cosa posso fare per voi dai non fatemi aspettare io ho un caffè bene qualcos'altro robin si toglie una cuffia succo mirtilli grazie mi si rimette le cuffie assolutamente non mi potevo aspettare nient'altro va bene ragazzi allora faccio così vado subito a dare i vostri ordini e poi magari vi faccio fare anche un saluto da peter peter sapete che appunto il barista nonché probabile proprietario anche se è sempre stato gentile ma scarso di parole un po' introverso che vedete appunto essere in piena conversazione con probabili guidatori tassisti forse magari qualche camionista non si capisce bene tipica gente suddetta redneck americano appena nancy passa e viene comunque a dare tipo un piccolo una piccola carezza a lucy che sta suonando per farle comunque capire che l'ha vista e salutarla e peter nota nancy che va verso la cucina per dare l'ordine fa un piccolo cenno anche a voi e non dice nient'altro di tornare sui condizioni io vabbè da un po' finisco di suonare passo sul bancone prima di andare al tavolo e faccio il mio ordine io ordino un cocktail analcolico e nient'altro è molto essendo vegetariana lei tiene molto a queste cose così ok quindi non beve alcol in poche parole aspetta il suo ordine e poi va al tavolo e saluta tutti quanti in modo tranquillo si mette seduto io mi mi sposto vieni 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 ciao ciao come va io gli do un bacio su la guancia saluto anche Robin provo a avvicinarmi per dargli il bacio ma so ci provo sempre tutte le volte per cercare so che a lui dà un po' fastidio però è una persona comunque sensibile quindi cerca sempre di farlo partecipe e poi saluta Katrin con un abbraccio e un bacio sulla guancia come va tutto bene un po' freddo oggi più del solito sì mi hanno annullato gli allenamenti non posso andare ad allenarmi non posso giocare non si può fare niente devo stare qua e tra l'altro l'unico posto fattibile dove probabilmente non salta la corrente dove si può stare in tranquillità beh diciamo che se ogni tanto ti riposi non è che crolla il mondo comunque Brandon sì ma se voglio arrivare in alto devo allenarmi sempre di più potresti fare sport in casa ma non posso mettermi a lanciare il pallone da una parte all'altra anche perché se no mia madre chi la sente Katrin pensa in quel momento a lei che comunque per falla a volo non potrebbe si permettere di andare in palestra o si allena a scuola o si allena con la palla al muro quindi dice sì hai ragione mentre a questo pensiero guarda il vuoto sì ok sinceramente questa tua fissa che hai per lo sport penso che non la capirò mai però apprezzo la tua passione Brandon e gli faccio un bezzo sorriso grazie vedrete diventerò milionario super famoso sapendo di sapendo di aver fatto un danno che ho riempito ancora di più il suo essere narcisista proprio quindi il suo ego è ancora enorme e poi mi rivolgo a Robin ti faccio Robin come al solito ti sento riempirci di informazioni oggi che ci dici fa freddo oggi vedete in quel mentre una porta aprirsi e venire fuori da questa porta un un garzone diciamo vestito malamente da cuoco un po' sporco è abbastanza impacciato con un vassoio sapete che è Charlie l'avete visto iper raramente di solito è più Nancy che cerca di spingerlo fuori dal suo tugurio della cucina e fare un po' conoscere al locale dato che per quanto sia rinomato soprattutto per quanta gente ci è in questi periodi è comunque molto una famiglia tra di loro e arriva appunto Charlie con un vassoio un po' un po' traballante lo poggia sul tavolo e inizia gli ordini arriva subito Nancy per tipo semi abbracciarlo da dietro avete visto vi ha anche portato Charlie siete contenti? beh si grazie Charlie e provo a a stringerlo abbracciarlo visto che non ti si vede mai fatti abbracciare e provo ti abbraccia tipo in maniera strana nel senso che non sa come neanche lui tanto fare tipo grazie senti oh si si grazie io l'ho sentita però faccio finta di niente come vai in cucina che fai che prepari oggi di buono che c'è nel menu guarda un po' in giro guarda il bancone dai il bancone nel tavolo patatine e poi vedete che cerca pian piano di andare via però c'è tipo Nancy che lo tiene lì davanti a voi io io cerco di tenerlo anch'io sulla conversazione faccio ma di vegetariano non è proprio nulla che non sia fritto posso provare a fare patata al forno ma te ne sarei tanto grato tanto grato se non è troppo di disturbo però non ti voglio creare altri lavori altri pitch perché quello che vedo in giro penso avrai tanto da lavorare principalmente vengono qui per il bere però ogni tanto lavoro anche allora proprio perché per questo allora voglio qualcosa preparato da te e sorrido mentre lo dico mi ci scerano gli occhi lo vedi? e guardo e guardo Katrin faccio così letteralmente lo vedi imbarazzato però c'è quel pizzichino di felicità che e gli hai forse fatto una bella giornata e quindi lo vedi Lucy è felicissima di questo quindi assolutamente ipercontenta per lei è un'ottima giornata lo lo vedi un attimo vincolarsi e scappare verso lo staff la zona dello staff verso la cucina e Nancy rimane ancora lì un attimo per guardarvi e voglio vedere di nuovo con questo sorriso e fa ragazzi io sono sempre qua sapete dove trovarmi mi raccomando qualsiasi cosa sono sempre da voi perché prende un attimo io mi mi metto tutta mi appoggio con la schiena su ah no aspetta sto vicino a brandon perché volevo anzi no faccio una cosa passo scavalco brandon ok io sono dalla finestra quindi siete 2-2 ok 2-2 perché se io ti ho fatto posto vuol dire che io appunto sono andato verso verso sinistra cioè verso destra la finestra si si è entrata più dentro si è entrato più dentro il tavolo esatto io quindi ti faccio cenno per farti spostare ti faccio cenno e mi voglio sedere lì accanto a robin e quando sei di fronte accanto a robin ci sono io sei di fronte a robin ah accanto a robin no ho capito tu te la sei immaginata a cerchio tu te la sei immaginata sì io me la sono immaginata due classici ah ok ok a posto l'ipota taverna quindi 2-2 e il tavolo in mezzo come il tavolo lo devo mettere in armata è uguale esatto sì sì adesso hai fatto l'esempio perfetto ok allora c'è anche l'esempio per il locale perfetto esatto comunque mi allora mi metto con la schiena sulla spalla tua ovviamente mi metto tranquilla e rilassata io bevo tranquillo quindi a voi come sta andando questo anno ossia l'iperbole delle fasce tettoniche è interessante anche io ho studiato le fasce tettoniche oh sì davvero oh sì io prendo il piccolo io gli do uno scappellotto che prendi anche me che prendi anche me non lo hai fatto cadri non c'era bisogno già gli avevo dato uno scappellotto e mi asciugo un po' un pozzoletto prendo un tovagliolo lo passo a Lucy e basta giusto ti ringrazio mi asciugo un po' io non rispondo alla domanda sinceramente io vedi voi vedete che dalla tasca tiro fuori uno specchietto e inizio a sistemarmi i capelli io provo a toglierlo io provo a toglierlo lo specchietto non avevo perché non faccio resistenza c'è il senso proprio non me lo aspetto quindi poi lo fai tutti i problemi allora faccio la vuoi finire col sistemarti i capelli dai è bene così tranquillo grazie ci mancherebbe però bisogna essere perfetti metti caso che entra la mia anima gemella dalla porta a un certo punto devo essere impeccabile guarda se ti dite è già scappata la ragazza probabilmente quindi non so quanto convenga a sistemarsi Lucy non risponde ma ride a questo perché l'ha pensato non l'avrebbe mai detto quindi ride su sta cosa assolutamente voi non siete simpatiche comunque non è che se non è che dovete fare le gelose è ovvio che ci sarà sempre un po' di brand lo sai lo sai brand che segretamente siamo tutte e due innamorate di te lo so però non te lo vogliamo dire lo so l'acqua era per il rito verso katrin quando dico questo l'acqua era per quello cioè una dimostrazione di amore non verbale ho sentito anch'io infatti ho sentito era calda l'acqua non era fredda sì 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 ho percepito il vostro amore e calore in questo gesto e tu? e mi da una scappellotta non gli avviciniscila cosa? eh quindi hai detto che stai studiando le le i movimenti iperbolici delle fasce tetoniche quelle tra parentesi Giacomo sta inventando cose di fisica perché non sa niente ma ovviamente sono cose benissimo ovviamente torniamo in caractere sì le fasce tetoniche e iperboliche sì ok e sta andando bene? oh sì sta andando si sente la sigla del cellulare scusate la sigla di x file scusate un attimo scusate era una ragazza? eh no è il mio cellulare no sì stavi scrivendo con una ragazza di solito io sorrido quando mi scrivono dei ragazzi eh no 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 eh ok no è interessante spiega si si no scusa no no che scusa perché ti vedeva agitato tranquillo siamo noi sto sudando il mio vicino Robin sussurro l'orecchio prima che se ne accorgi si può venire a nascondere il tacquino e indico il barista proprio per stare al gioco e dico guarda che lui sa poi e in effetti in quel momento il barista guarda per un attimo verso di ora e fa essenzialmente confusa faccio ok faccio senno di sì ma sono non ho capito quindi ok io non ho capito cosa scrivi lì dentro cosa c'è lì dentro? l'avete mai visto fuori quel barista? dico fuori da questo locale no adesso mi ci fa pensare no è perché fa freddo eh sì certo è vero i rettigliani non sopportano il freddo neanch'io sono molto freddo adesso non ripetiamo io sbuffo faccio tu eri fuori un attimo fa con un capotto potrebbe non essere abbastanza per lui magari ne sarebbero due in quel momento è soltanto una teoria in quel momento all'improvviso cala la luce c'è un blackout bene un secondo due secondi ditemi voi se volete fare qualcosa nel frattempo la seconda la luce stringo fortissimo il tacquire io prendo la gitarra e comincio a strimpellare che si agita sento che qualcuno si agita e comincio a strimpellare a canticchiare non fa affatto più paura così no 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 fa ancora più paura io sono tranquilla sono abituata a che salti la corrente quindi è bellissimo inizi a strimpellare qualcosa e dopo tipo un secondo che è iniziato ricompare la luce esce fuori Charlie dalla cucina e fa scusate colpa mia rientra lentamente in cucina tutti iniziano pazza ha voluto far cucinare la roba da lui è strano di tu come piace sul forno al massimo guardate al forno non penso che qualcuno ci muore per quello e poi è contento adesso come era felice sì ma è strano parecchio strano ha capito quanti anni ha Charlie Master giusto per sicuramente più di 30 sui 33-35 ok ok io mi giro scommetto secondo me non ha rimorchiato neanche una donna nella sua vita ma tu pensi tutto sul rimorchio delle donne sì ma tu vali tutto sul rimorchio delle donne magari ha anche altre altre capacità altre abilità è capace a fare tante altre cose spero per te che sappia cucinare allora si è stato assunto come cuoco penso di sì mi dà molto l'idea che sia stato assunto per pietà ma noi ne possiamo essere sicuri ma io gli do fiducia io guardo il bicchiere d'acqua ormai vuoto che non posso più lanciargli addosso all'effettivo quindi mi metto a scherzare ancora con Robin e dico in maniera molto seria e se anche Charlie fosse un alieno è per questo magari quello sbalso di corrente perché sta creando qualcosa di strano per ammazzare Lucy senti capisco quando mi stai prendendo in giro non è simpatico non sono stupido sono serissima non mi vedi? e la vedi effettivamente molto seria comunque in viso no comunque non sono uno di quelli schizzati che credo che tutti quanti siano alieni ho soltanto i miei sospetti sul barista ok ti devo per curiosità c'è un piccolo momento di tranquillità tra di voi e in un attimo sembra che tipo involontariamente state ascoltando un po' tutto il brusio che c'è dentro il locale e vi coglie quasi come se fosse praticamente quasi sussurrato di fianco a voi anche se in realtà è a tavoli di distanza un discorso che fa ma dai ma davvero credi ai coccodrilli dentro le fogne ma chi ci dovrebbero cioè come ci sono finiti lì e poi come crescono cosa mangiano cioè che schifo no ma non è possibile dai cioè come fa a sopravvivere ma ti dico che mio cugino beh no l'amico di mio cugino l'ha visto te lo assicuro ma che dici e in quel momento all'improvviso torna il brusio normale e ripensate a questa conversazione un po' un po' straniti tipo sì tipica cosa però tra una conversazione a un tavolo non che le vostre siano meno strane sì l'ho sentita l'hai sentito un coccodrillo l'ho sentita anch'io Robin tu l'hai sentita questa diceria c'è un mio amico abbastanza famosa un suo amico ah io l'ho sentita solo quella volta però sicuramente tu sei più informata di me credo di sì sono sicuro di sì c'è un coccodrillo nelle fogne cazzo ma come c'è arrivato un coccodrillo dalle fogne Robin lo so beh molti guarda Brandon lo sapevo che non lo sapevi l'ho chiesta a Robin apposta sì certo beh molti i casi sono due ho inventato è esagerata la notizia perché molti degli avvistamenti paranormali purtroppo sono soltanto dei casi normali ecco nel senso è molto più probabile che escludendo le cose fantascientifiche come dire molti molti cittadini preferiscono non so prendere un coccodrillo come animale domestico pensando che sia interessante poi lo butta nelle fogne ed ecco il risultato e alle volte sopravvivono più del dovuto e ecco le storie ma poteva anche essere un grosso rato sì un grosso rato tra un grosso rato e un coccodrillo ce ne vuole non so di questo coccodrillo nello specifico ma so che ci sono tutti i casi conosciuti ecco sono molto più interessanti altri casi paranormali quelli delle fogne con i coccodrilli quelli sì che sono interessanti altri sì tipo? tipo l'uomo falena Muffman quella sì che è una storia interessante qui se no non la conosco perché stasera penso che non dormirò andiamo a trovare l'uomo falena oh no sei impazzito? perché no? io non ci tengo proprio ma con sto freddo poi? esatto no beh non adesso non adesso non adesso no però io secondo me allora se avessi un coccodrillo di sicuro non lo butterebbe nella fogna un coccodrillo domestico non so ma povera bestia perché? la difficoltà è dargli da mangiare tutti i giorni a parte quello a volte mi porto a casa le gambe dei miei avversari quindi non fare queste battute perché comunque sono povere bestie portate fuori dal loro habitat e fatte vivere qui in delle teche cioè non è che sono come cagnolini no lo metterei in piscina ragione con sto freddo? hai ancora la piscina piena? hai ragione e poi penso che comunque il coccodrillo nelle fogne sia un po' una storia esagerata alla fine cioè con questo freddo per l'appunto ci sarebbe già morto è vero è un rettile probabilmente sarà già morto ma non è morto se lo dice Robin ma non può essere morto ma se non è un coccodrillo ma più ti ricetterò di noi quindi lo saprà di sicuro ehi piano eh grazie Katrin sentite una porta di nuovo spalancarsi e di nuovo emi danzante arriva Charlie con una sottospecie di ciotola con effettivamente una patata cotta e della insalata che ormai si sta cucinando per colpa della patata su un piatto e te la pian piano avvicina mette lo vagliolo mi guardo mi guardo la cosa faccio ok faccio lo ringrazio con un grosso sorriso e soffio ed inizio a mangiarla piano piano io la fisso ti guardo per un attimo non aggraziato perché non è proprio detto un po' maschiaccio nei modi e goku e no così perché brucia così perché brucia però piano piano corta le froschette poi l'ultimo quando si fredda la prendo in mano e gli do gli ultimi mozzicati rimane lì un attimo a guardarti che appunto la assaggi buonissima minimo minimo sorriso è buonissima ha un minimo sorriso e poi cattagliela di nuovo in cucina mentre stai mangiando appunto arriva anche nancy e fa guarda so che magari non è il massimo perché diciamo che a parte hamburger e patatine non è che sappia tutto sto granché però guarda ti ringrazio vado matto in inzalata fa sempre bene benissimo poi tu hai una linea mi diceva mia nonna mia nonna che comunque lei ha origini italiane fa dice che a fine pasto lava via tutto non so non ho mai capito cosa voleva dire però mi ha sempre detto sta cosa guarda secondo me ha sicuramente ragione perché le nonne lo sanno di più cioè devo sicuramente sentire queste queste novità insomma c'è sempre la nuova dieta adesso escono delle pillole chissà se sono funzionano queste pillole dimagrante ma stai benissimo ma stai benissimo faccio la mia età dai ma no nesi sei stupenda sei stupenda avessi vedi qualche anno di meno guarda io gli do uno scappellotto guarda se per picchiere vuoto se Lenzi se Lenzi non guarda il momento che magari gira la testa che magari sta guardando intorno gli do uno scappellotto ma stavolta glielo do forte però o fagli male perché già ha detto una cosa un'offesa grossa quindi però della testa di prendo non è un'offesa si esatto lo so proprio per quello ho dato una scappella che poi mi farà entrare il sale in zucca a farsi di scappellotti parte lo scappellotto appunto mentre Lenzi è mezza girata a guardarsi un po' chi la sta chiamando chi la sta chiamando per per i vari per prendere altri ordini e arriva lo scappellotto senti pooh e poi inizia pian piano a calare la luce dentro il locale quasi a far difficoltà a tenere la luce accesa ci spegne per un attimo veramente una frazione di secondo e vedete come una sottospecie di linea che contorna Nancy come se fosse tipo illuminata da qualcosa e poi ovviamente nella frazione di secondo si riaccende la luce ed è tutto normale aspetta è come se fosse contornata da una luce poi si torna tutto normale Nancy si rigira da voi e fa ragazzi vorrei tantissimo anzi mi siederei qui con voi e vedete che parte su un altro tavolo a prendere ordini io faccio una cosa nel senso prima di tutto gli do gli schiaccio il piede a Brandon per quello che ha detto forte e poi faccio ma avete visto cosa è successo? continuando quello che ha detto oggi è proprio uno splendore in effetti sono tentate di lanciare il bicchiere all'effettivo non ti puoi difendere poco incrociato cast io sorrido e basta nel senso cerco di trattenermi ma comunque mi ha fatto ridere la battuta dimmi ma master non stavo facendo una preghiera con la bibbia in mano mi sto guardando tolgo il libro se mi hanno tolgo e mi metto il libro dimmi tutto master io so essendo cioè venendo qui spesso dove si trova l'interruttore della luce o gli interruttori della luce allora del locale principale del locale principale no però sai che ci sono degli interruttori che probabilmente gestiscono le varie sale nel piccolo corridoio che porta alla sala dello staff un po' più distante del del telefono a gettoni quindi sì tecnicamente e da quel punto lì io riuscirei a vedere Nancy giusto? sì Nancy da da dove mi trovo? cioè da quel punto lì? sì anche facendo un passo ok sì sì allora io lentamente mi alzo e comincio a cercare di farmi piccolo il più possibile visto che sono alto un metro e ottanta anche se sono un palo sottilissimo che mi taglio con un grissino però va bene o sono il grissino comunque vorrei cercare di raggiungere quegli interruttori eh sì se nessuno fa nient'altro io me lo guardo intanto sono curiosità ma io in curiosità me la guardo se non lo perdo di vista mi alzo e lo seguo per me giusto per tenerlo sotto occhio che sta andando in bagno in bagno dall'altra parte sì ma per brand no esatto in realtà Lucy semplicemente poi preoccupata nel senso sono preoccupata di frate che non l'ho mai visto muoversi si alza si alza attività fisica cos'è che è successo oggi che cosa è successo dove si è sentito male tecnicamente da dove sei seduto no perché stai guardando la parte opposta ma in realtà siccome appunto sei verso il corridoio puoi semplicemente sporgerti e guardare dietro senza effettivamente alzarti ok se tu Robin arrivi tranquillamente e dimmi se vai voglio tenere la mano sull'interruttore guardare Nancy dove si trova Nancy al momento praticamente tipo due tavoli più avanti di voi di dove siete seduti sta prendendo ordinazione sì 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 mi guardo in giro controllando che nessuno mi stia guardando in quel momento tipo cerco di farmi notare e schiaccio l'interruttore e guardo Nancy all'improvviso diventa buio completamente beh completamente no perché comunque c'è un po' di luce dall'esterno dai lampioni esterni e e di Nancy ma la sua figura è normale nel senso che è completamente cioè ti aspettavi ovviamente la sagoma come avete visto però invece è una sagoma abbastanza normale illuminata a malapena dalla luce del lampione della strada di fuori quindi niente di così particolare è vero anche che ora che l'hai notato era molto più buio prima probabilmente perché il blackout era di tutto di tutto all'esterno però era veramente buio adesso che noti riaccendo la luce e cerco di disperdermi in mezzo a qualcuno vicino oppure vado vado in bagno vado in bagno dall'altra parte facendo la luce vado in bagno cercando di ok io quando vedo che va verso il bagno e avendo visto la luce il senso è il fatto che comunque l'ho visto che ha spinto la luce sì sì beh hai visto un movimento quindi poi non l'hai magari visto completamente ma lo puoi intuire cioè è vicino a un interruttore cioè ok io mi me lo guardo dove va verso il bagno e faccio spallucce va bene ok per un attimo le cose strane penso dentro di me vai proprio in bagno in bagno comunque cioè fai finta di andare in bagno no no sì cioè vado in bagno mi sciacquo l'idea mi sciacquo la faccia ed esco di fuori di nuovo ok recupero un attimo la scena e appunto vedete Robin scappare un attimo in bagno davanti a voi e poi siete un attimo lì volete fare qualcosa io parte vabbè continuano a chiacchierare più del meno per adesso no ok allora come era la patata quindi buona buona ne volevo un po' no no colpa mia che non ho offerto scusate sto mettendo i soldi da parte Robin tu vuoi prendere vogliamo prendere qualcosa ma c'è una paratine qua e tipo oggi volevo offrire io quando quando katrin dice sta cosa faccio stare qualche attimo e faccio guarda oggi visto che mi è successa una cosa molto particolare all'università faccio volevo offrire qualcosa un giro a tutti quanti se volete beh accetto volete anche qualcosa da mangiare grazie un bel hamburger bello grosso bello grosso e faccio faccio nancy mentre mentre tu chiami nancy appunto vedi che sta prendendo l'ultimo ordine sta arrivando verso di voi e in quel momento Robin esce dal bagno e proprio appena apri la porta vedi una persona davanti a te una ragazza abbastanza giovane tipo sui 25 27 anni non di più capelli neri ben curata una sottospecie di tagliere o comunque di un vestito abbastanza elegante e vedi che ha una piccola targhetta con un nome Vera quanto è alta? tu sei 1,80 giusto? 1,70 anche di più ok sarà sull'1,70 sotto l'1,70 non l'ho mai vista qua da queste parti questa ragazza in realtà vuoi poi farmi il primo test facciamo il primo tiro facciamo un test facciamo un test di intelligenza di intelligenza vabbè io c'ho di 12 in intelligenza sarà uno non mi pare di avere no al massimo di 12 non potevo avere il massimo è di 12 no niente volevo con kids scusate no è rimasto in carica non credo di avere non credo di avere non credo di avere ah non credo di avere vantaggi vari quindi tiro un di 12 3 no ok di 6 anche più di 6 esatto devo aggiungere un di 6 ah sì vediamo 3 e 4 su di 6 3 su di 12 4 su di 6 ok un successo sì sì stavo guardando anche se avevi qualcos'altro che potevo darti un più però no ok comunque il successo di 4 perfetto e hai il dubbio però oggi sei sicuro di non averla mai vista quindi o è entrata in questo momento nel tempo che tu correvi dall'interruttore al bagno forse può esserci stati in altri giorni però comunque ti hai una faccia abbastanza nuova e nonostante tutto hai una sensazione di familiare su di lei è un po' strano effettivamente però sei sicura che sicuro anzi scusa che non è non era presente quando voi siete entrati non c'era sicuro ok ma lei mi sta guardando in realtà ti sta guardando tra virgolette oltre perché vorrebbe andare in bagno e tu sei il mezzo rimango di un attimo accordo mezzo preso e vado al tavolo tenendo d'occhio mi giro questa ragazza poi guardo nancy e poi guardo gli altri e mi avvicino vicino al tavolo nancy è lì che sta prendendo l'ordine quindi allora un hamburger mi frizzo immediatamente appena vedo nancy e tipo c'è robin sta offrendo da bere e da mangiare cosa vuoi tu quando lo vedo nel tentativo più inutile di non farmi apparire nervoso faccio dei passi molto molto rigidi verso il mio posto come se tutto fosse normale nella mia testa ma in realtà non è affatto normale perché mi muovo e continuo a fissare nancy mi siedo robin prima o poi mi farei un sorriso qualcosa del genere dai ti vedo qua ormai ogni giorno non vuoi niente dai so che è poco però addirittura te lo offro io se proprio vuoi qualcosa no no offro io ho detto offro a tutti dai robin fammi contenta cosa vuoi da mangiare e da bere cosa vuoi prendo il mio succo di mirtilli un altro no e da mangiare niente non puoi non mangiare e sbatto e sbatto la mano sul tavolo non puoi non mangiare beh sì posso in realtà un uomo può sopravvivere parecchio senza mangiare è vero la cena è importante va bene però sì sì no vuoi un hamburger un bel hamburger grosso ciccione no no grazie patatine non voglio niente grazie facciamo due patate digli due patate al forno con un po' di insalata come spiegare se gli puoi chiedere l'insalata se la puoi mettere a parte magari non nello stesso piatto glielo spiegherò andava bene eh però guarda un gol a prima due uno per me e uno per Robin ok no no io ti prendo anche un'altra birra grazie va benissimo tesoro e Trin tu io voglio osservare molto attentamente Nancy per vedere se riesco a individuare qualsiasi cosa che sia fuori posto nei suoi vestiti nel suoi persino nel modo in cui hai messo lo sbalto sulle unghie non lo so qualsiasi stupidata ok che possa notare se c'è qualcosa di strano magari qualcosa che si comporta diverso da una volta la sto tipo scannerizzando tipo Sherlock Holmes in questo momento per vedere se noto qualcosa ok fammi un test di intelligenza ancora ok ma c'è come le stanze della mente proprio immagino tipo sì eh non so se sensibile alle emozioni conta o se è una cosa di osservazione dimmi tu eh non lo so ti chiedo magari sto no oppure esperto di paranormale se no no al momento no al momento stai soltanto scansionando quindi c'è un D12 e un D6 allora allora 7 sul D12 e 3 sul D6 perfetto eh allora la guardi la guardi la guardi e stai cercando ogni singolo dettaglio ci sarà qualcosa ci sarà qualcosa poi è sempre come un po' diciamo piacciona nel senso che è sempre appoggiata al vostro tavolo è sempre un po' che si fa notare eccetera eccetera e quando si è lascia la mano dal tavolo e sta per andare noti che non lascia l'impronta di calore sul tavolo quindi è come se fosse fredda in realtà è possibile perché comunque siamo al caldo e quindi ci può essere che non ci sia la condensa tipica del calore della mano però potrebbe essere un input particolare da notare cioè lei se n'è andata adesso? si 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 andata a dare gli ordini io che ho sono di costruzione piuttosto freddo le mani sono sempre fredde metto un dito sul tavolo e tolgo il dito vedo l'impronta appena appena ma c'è mentre la sua non c'era ho sbagliato persona io quando sento questo faccio tipo chi è sbagliato? no no è andato in cucina no è andata in cucina andata in cucina perché è sbagliato persona? in che senso? il soggetto sarebbe su cosa poi? oppure sono in due due de che? si parla anche con noi Robin ti prego l'avete vista brillare vero? ah sarà stato un effetto ottico la riflessione della luce? sei tu lo scienziato volessi sberrò tu? le conosco pure io queste cose avete visto quando si è spenta la luce un attimo fa? si ho visto che hai spento la luce si perché hai spento la luce tra l'altro? ascoltatemi vi prego si fanno sti scherzi era era un esperimento era meno era meno buio di prima si c'era la luce fuori si no non era solo questo era guarda tocco col dito il tavolo e tolgo il dito la faccio anch'io si mi ha scanzito mi ha scanzito mi ha scanzito mi ha detto la manola vedete vedete le impronte si si non ne ha lasciata una vabbè sai che se altre persone non ce l'hanno le impronte digitali finisce no anche quella anche quella ti mangio ti ti ha mangiato i polpastrelli guarda che è vero non ci hanno le impronte non è non sto parlando delle impronte digitali sto parlando dell'impronta di calore sto parlando di termodinamica brandon magari ha le mani ghiacciate siccome va avanti e indietro tutto il tempo fa rica freddo proprio di uscire o entrare no sta lavorando all'interno del locale da troppo tempo per essere così fredda persino le mie mani sono fredde ma non così tanto ok io non la sto seguendo proprio nel senso cioè di solito ci crede al molto spirituale lei comunque non crede proprio al paranormale però crede a entità superiori divinità e quant'altro però a queste cose non è che ci ha mai creduto tanto e quindi faccio guarda però qui non ti sto seguendo proprio non importa avete le rotelline che girano qual è il discorso scusami qual è il tuo dubbio forse non è il barista essere un rettiliano fino adesso io l'ho preso un po' come uno scherzo in senso uno dei miei desideri è scoprire veramente la verità su queste cose ma non ho mai pensato di poter davvero notare una cosa del genere in quel momento ok proprio mentre stai dicendo che non credo cioè che l'hai preso sempre con uno scherzo però ci credevi ma non volevi troppo crederci speravo no speravo che fosse vero e che mi portasse a qualcosa vi ricapita più o meno la stessa sensazione di prima dove quasi tutto sia a quieta e sentite benissimo una conversazione di due ragazze che sono dietro di voi però in realtà è come se fossero qui con voi a parlare e sentite ma dai ma c'è l'ho sentito mio padre pensa che tutti siano comunisti pensa che non so controllino le persone che ci siano persone segrete che magari ci sia qualcuno che controlla tipo burattini ma c'è ci credi dai ma sono sono cose da guerra fredda siamo passati queste cose dai nessuno nessuno pensa che che non so qualcuno all'improvviso dice una parola magica e succedono chissà che cosa faccia non ne ho idea ma pensa te e ritorna il brusio di fondo come se ma proprio praticamente a un certo punto è come se si accretasse tutto e noi sentiamo queste cose praticamente ok non parliamo tanto al aspetto cinematografico parliamo proprio che noi realisticamente sentiamo queste cose esatto e che praticamente le voci è come se si abbassassero un po' di parole è come il focus mentale non è normale esatto è proprio il focus è tipo il focus mentale che all'improvviso sentite una una parola e c'è solo quello all'improvviso c'è solo quella parola c'è solo quel rumore tra virgolette però ripeto è una nostra sensazione o proprio vediamo è una vostra sensazione solo voi quattro eh solo voi quattro non lo potete sapere però sì 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 nel senso certo certo avete sentito che la seconda volta che che succede di sentire la conversazione cioè come se si abbassasse sì maledetti russi stiamo la frangia sto facendo un discorso serio Brandon anche io patriottismo americano non sai neanche non sai neanche di che cosa stai parlando quindi finiscila per favore americano sostengo il mio paese certo io vorrei osservare molto attentamente le persone attorno a me sì anche io a questo punto mi ci metto da uno sguardo in giro sì io guardo giusto perché la voce veniva da due ragazze quindi ho comunque uno sguardo intorno come se stessi cercando realmente qualcosa Katrin invece si alza e vado verso il proprietario del bar crediamo sia proprietario sì sì Peter posso parlarti un attimo so che in mezzo a casine in mezzo facendo cose però cerco comunque di ottenere la sua attenzione vedi che butta un attimo la pezza che avevi in mano fa tipo un segno così alle persone che stava parlando e fa dimmi tutto cara come posso aiutarti da quel momento tiro fuori dalla felpa perché comunque è sempre vista sportiva un foglio a modi curriculum molto abbozzato con cosa ho fatto lavoretti passati e io lo porgo sto cercando di mettere via i soldi per tornare a studiare con gli altri però loro non sanno nulla se qualche lavoretto visto che mi manca poco da potermi dare ad assegnare visto che comunque c'è tanta gente non dico proprio oggi perché comunque è tardi però se serve dopo per pulire o fare qualcosa guarda per far sapere assolutamente perché ovviamente questo diciamo epoca d'oro di cui possiamo diciamo far parte dove la gente entra così e riempie ogni giorno il locale non sarà così per sempre soprattutto quando il freddo diventerà un pelino più piepido però non ti preoccupare anzi guarda mi fa piacere aiutarti ti terrò debito conto fammi un piccolo test di spirito ok di spirito 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 alcolico spirito è coraggio e diciamo 4 4 e 3 tipo credo sia tipo forza di volontà si ok qua usiamo un moto qualche bonus per l'appunto essendo tipo lavoratrice c'è tra i vantaggi allora vediamo non ho già te empatica per il fatto che ho detto visto che c'è tanta gente però comunque te l'avrei dato per coraggiosa qua in effetti ti serviva e all'improvviso tu è come se vedessi la scena dai tuoi occhi però in una situazione completamente diversa dove praticamente siete soltanto tu e lui col solo bancone che vi separa nessun altro intorno in realtà non lo sai perché vi state guardando però è come se percepissi che siete soli completamente spento buio però comunque vi potete vedere completamente e visivamente perfettamente come se ci fosse la luce ti si avvicina e fa non è questo il tuo lavoro e proprio come se fosse un flash come se fosse un'allucinazione poi ovviamente lo ritorni a vedere normalmente con la sottospecie di sorriso nonostante sia estremamente introverso e fa grazie lo terrò tranquilla ti chiamerò e vedi che ritorna confusa torno al tavolo proprio con una faccia visibilmente confusa seduta lì zitta che penso Katrin si che hai ordinato dell'altro no 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 tranquilli cose mie cosa hai notato andiamo a parlarne da un'altra parte io penso più di qua non penso ci siano altre parti vuoi uscire dal locale Katrin guardo la tempesta di neve fuori no facciamo che ne parlo a voce bassa però mi avvicino a quello che è effettivamente più vicino perché parlare un po' a tutti sotto voce non si capisce niente in mezzo al brusio quindi gli racconto effettivamente quello che è successo e inizio anch'io a dubitare sul fatto che c'è qualcosa che non va quindi o hanno drogato tipo il cibo oppure c'è qualcosa che non va a livello di paranormale sto cominciando a pensare io lo racconto proprio in maniera agitata cioè si vede un po' tremo un po' che Katrin non ci crede nel paranormale per niente quindi la prima volta che succedono cose così c'è rimasta un po' la luce che va via e che rimane più buio questa cosa qui che ho appena visto Katrin il freddo forse ho sbagliato forse forse non è una situazione di alieni forse è una situazione di un altro tipo di paranormale beh noi l'abbiamo sentito comunque dall'altra parte del tavolo che cosa quello che ah si si parlando a voce bassa ma che vi fate sentire solo tra voi è fattibile sì 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 anche due episodi di prima del coccodrillo e dei comunisti che a un certo punto si è abbassato come se fosse abbassato il volume della voce delle persone e l'avete fatto caso anche voi a sta cosa no? non sono stato l'unica io mi metto la giacca mentre lo si dice questo e faccio dove vai? stai andando via? faccio un segno come per dire tranquilli non so sto fuggendo ma stai uscendo no? vado verso vado verso la porta sempre guardando Nancy e guardando Peter ti fanno spazio per appunto scendere e mettersi scendere ti metti sul corridoio e appena ti alzi in piedi dalla seggiola completamente buio un blackout totale e tutti voi mi tirate su spirito no spirito spirito 2 di 6 io ho fatto un 7 e un 2 ok un secondo che cazzo sono i di 4 forse è coraggioso anche qua potrebbe dare la mano in teoria si 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 ok io ho fatto un 6 e un 1 ok due estremi mamma mia io ho fatto 2 e 1 ok wow tutti voi vedete come se non potete distinguere completamente le figure però diciamo che potete intuire che siano gli avventori del locale che appena si spengono le luci vi stanno guardando e al posto di avere gli occhi quindi diciamo non notare niente notate come se avessero due fanali che vi fissano ma proprio vi fissano intensamente gialli proprio fanali da macchina quasi e tu Brandon sei sicuro che ti vogliono fare fuori cioè stanno puntando a te cioè tu sei il prossimo che sparirà nella tormenta e nessuno vedrà più io allora ovviamente scusa siamo tornati normali o siamo ancora esatto stanno per dire ovviamente tempo di neanche un secondo e la luce torna e tutti si guardano tipo un po' in alto per capire cosa sta succedendo e in effetti sentite Nancy dire Peter dai mettiamo il generatore perché qua altrimenti non si può lavorare ok prima che si accendesse la luce sentite un e quando si accende la luce vedete vedete Brandon così sulla spalla di Lucy io lo guardo che amarezza tutte e due penso me lo abbraccio tipo e gli do una bacca però tutti quanti noi abbiamo visto quei cazzo di fari tutti tutti diciamo che Brandon ha avuto qualcosa in più per aver fallito però si si però li ha visto tutti tutti io ho detto me lo abbraccio gli do delle bacche per cercare di rincuorarlo ti faccio dai tutto bene e comunque sono abbastanza agitato anche io quindi voglio uccidermi voglio uccidermi calmati calmati ragazzi avete visto tutti ma parli di senza farmi vedere senza indico loro loro due parli di loro sì a te ti dico indico loro loro due sì Peter e Nancy i fari i fari che ho visto Master erano solo di loro tutto il locale vi stava guardando tutto il locale tutto il locale avventuri vero avventuri tutto io ho capito giusto è pensato ai locali si pure io pure io no tutti tutti ok allora aspetta allora aspetta si lo faccio in cuoro faccio ragazzi credo che che sia fuori c'è proprio la tempesta che non si può uscire no c'è parecchio vento questo lo vedete c'è un po' di neve però diciamo tenendosi molto stretti e cercando di trascinarsi lentamente si può passare ragazzi io direi mi risiedo io intanto che lui si parla ragazzi io direi che penso sia arrivata ora di tornare a casa volete venire da me io non sono un po' di aspetta 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 questa cosa si è attivata al momento che io mi sono alzato volevo provare a vederci master tutta questa scena c'è nel mio effervescente fervente studio passato del paranormale mi ricorda qualcosa c'è qualcosa che posso aver letto può ricordarmi non lo so qualsiasi cosa che possa darmi un'aiuto in questa situazione fa cappata testa di intelligenza e ti do il più uno per appunto il tuo vantaggio grazie quindi di 12 e 6 sempre il più uno e qualsiasi risultato ok purtroppo ho fatto 3 sul di 12 5 sul di 6 più uno va benissimo 4 e 6 va benissimo sta il tipo è tipo il processore tipo qualsiasi cosa che ti venga in mente che possa arrivare esatto e pensi a più o meno anche a tutto quello che hanno detto pensi a tipo magari qualche robot che abbia sostituito degli uomini che stiano controllando che siano tipo marionette per una simulazione stai pensando a degli alieni che dei simbionti alieni che poi possono riprodursi e cambiare gli uomini quindi rapirli e cambiarli con qualcos'altro stai pensando appunto a diciamo macchine da guerra quindi una sottospecie di nuovo ordine mondiale dove sono tutti controllati telepaticamente un hive mind o qualcosa del genere cioè ti passano veramente mille situazioni in testa e stranamente tutte hanno un fondo di verità cioè tutte sono più o meno calcolabili all'interno e allo stesso tempo manca sempre qualcosa per essere perfette quindi ci sono un sacco di spiegazioni che sembrano completamente centrarci però manca quel qualcosa in più per essere perfette e ne hai veramente un disastro alieni rettiliani controllo mentale invasione degli ultracorpi invasione degli ultracorpi sintetici robot più fantasmi alieni su cui mi concentro quindi suppongo che penserò tipo poltergeist c'è anche più spettro anche anche semplicemente appunto possessione possessione di uno spettro che si 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 assolutamente ok allora dico no qui dobbiamo dobbiamo andare con cautela credo credo che reagiscano alle nostre scelte no qui adesso noi dobbiamo andare via a casa mia qui vicino andiamo vi ospito tutti a dormire da me no non hai capito Lucy se adesso tutti alzi forse l'unica cosa è continuare la simulazione e continuare a fare quello che credono c'è il caso che continuiamo a fare forse è meglio se restiamo ancora un po' e prendiamo qualcosa e mangiamo e poi a cena andiamo come se fosse tutto a posto forse non lo so non sono bravo con queste cose se non sei bravo tu no intendo dire a fingere intendo dire ti abbasso la mano intanto un po' meno ansia piano con calma sei sempre rimettiti le cuffiette mettiti la musica che vuoi ma hai appena visto quello che ho visto siamo tutti insieme Robin siamo tutti insieme in questo momento Katrin si aggrava tutto il coraggio possibile proprio per calmarlo cosa vogliamo fare qualcuno sta vicino e io ti continuo no chiunque no non sarebbe l'idea migliore ti tiro il bicchiere in faccia se lo fai ce l'ho ancora qui piano io posso provare ad attirare l'attenzione mettendomi a provare a cantare qualcosa se succede qualcosa se succede vai te lo concedo no no mi guardo no mi guardo gli altri se avere alta attenzione addosso non sarebbe proprio l'ideale per rivedere se succede però potrebbe anche provare che non stiamo guardando loro potrebbe essere un'idea in effetti quanto che stava tutto normale per noi forse quindi vuol dire che si si significa per la patria contiamo tra voi in caso seguitemi al ritmo di musica e vediamo un attimino di passare da dietro o usci o anche dal bagno mi alzo e vado in bagno ok e vai in bagno apri la porta e quasi ti scontri contro oh grazie mille Robby scusatemi mi hai sparato nelle orecchie quindi mi sono un attimo distratto in quel momento grazie mille per il follow comunque stavo dicendo sì che apri la porta del bagno e ti trovi una ragazza davanti appunto sui 20 25 anni 27 capelli neri abbastanza corti molto carina un tagliere abbastanza elegante e una mosca sull'altra testa e di nuovo è incredibile non si vuole andare e noti una piccola targhetta con un nome vera ti guarda un attimo tranito ti lascia passare per entrare in bagno buonasera buonasera faccio e tipo perché c'è questa cosa del mi sto cagando sotto però allo stesso tempo questo è fregna quindi devo andare focus devo essere concentrato cazzo vado in bagno e dentro entri e addirittura è lei a chiuderti la porta dietro esce si mette dio cristo in questo momento anche un gesto così è tipo park e si mette su un su una seggiolina alla fine del bancone che aspetta un po' e Robin senti i suoi occhi addosso subito dopo fortunato tu non sei lì ok guardando ti sfuggite poi cambiando di nuovo che sensazione ho da parte sua cioè nel senso sembrano occhi tipo predatori tipo quei fare che abbiamo visto prima sembra spaventata sembra cioè che impressione mi dà questa ragazza in questo momento più incuriosita e comunque molto attenta a in generale quello che fai tu però noti che è più il gruppo cioè è interessata al vostro gruppo a cosa state facendo ok sembra comportarsi quindi comunque diversamente da tutti gli altri ehm si non l'ho formulata bene non l'ho formulata bene intendo dire c'è qual sono tutte robe molto subliminali ho capito cosa intendi è come se fosse fuori luogo sì esatto ok allora sì ma allo stesso tempo un po' la tua parte razionale ti dice è una ragazza da sola quindi con chi potrebbe parlare cioè è lì forse per bere forse per trovare amicizia però è normale che non interagisca con gli altri che sono tutti aggruppati sì è strana è tipo un pesce fuor d'acqua ma allo stesso tempo la tua parte razionale dice ok sì ma è abbastanza normale mi è già arrivato il nuovo succo di mertilli in realtà ancora no neanche la burga no non è ancora arrivato ok allora guardo il micro gocce inutile che è rimasto nel bicchiere precedente guardo la ragazza guardo Lucy e Katrin faccio torno subito ok aspetta aspetta andiamo via li attiro io voi andate in bagno aspetta 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 no c'è c'è forse non siamo i da c'è forse aspetta tanto mi alzo per farti passare perché comunque dovresti passarvi sopra per passare effettivamente quindi immagino che vi siete anche scambiati lui continua a fare avanti e indietro avanti e indietro cercate di osservare tutto mentre sono di là vado verso il tavolo della ragazza è sul bancone è seduta sul ah al bancone non avevo capito al bancone è vicino a Peter quindi beh Peter è un po' distante che sta ancora parlando con gente però sì diciamo che sono eh faralleni ok però tanto abbiamo visto che tutti quanti sono in cui fare con gli occhi quindi ti lascio lì in sospeso a a bullire per un attimo eh Brandon cosa fai in bagno? io faccio la pipì ok immagino che ti lavi le mani fun fact devo farla veramente quindi posso andare a fare la pipì facciamo facciamo questa scena poi ti lascio perché appunto vado a riprendere gli altri quindi ok allora faccio la pipì mi lavo le mani e guardo lo specchio e faccio ok arrivo proprio su questo sei a sei a guardarti lo specchio e noti che ha tipo una piccola rottura soprattutto sull'angolo che arriva fino a metà quindi c'è una piccola crepa ti lavi le mani torni sullo sguardo non c'è più nessuna crepa tocco tocchi formalissimo ok guardo dietro lo specchio se sei di quelli che si può ci puoi guardare dietro ok fammi un test di intelligenza di cosa scusa? intelligenza tirando solo di 4 stasera tirando solo di 4 ragazzi è inutile purtroppo per adesso 4 scoppia dai 1 5 ok aspetta che tiro il dado del destino si se fai il massimo il dado del destino va sempre 1 anche di 6 scoppiano 5 si tutti i dado scoppiano e noti che qualcosa di strano è tipo segnato cioè tu alzi e guardi tipo dietro lo specchio e noti che tipo è segnato qualcosa sul muro vai anche a toccarlo immagino lo tocchi fai un test di agilità sto giro quindi dai oh no ok c'ho il d6 di agilità c'ho il d6 di agilità 4 tiro anche però il dado del destino perché fa sempre 1 all'ucinante questa cosa lo tocchi e è tipo è tipo tagliente è tipo una crepa sul muro tagliente la tocchi rimetti lo specchio e la crepa è tornata esattamente dove c'era la crepa sul muro se vuoi puoi addirittura farmi sto pensando puoi comunque farmi un test di intelligenza e sperare in bene faccio il tiro di 4 4 scoppia ok ottimo 4 scoppia già basta già basta quello e non 4 scoppia nasce un uomo neurone esatto allora all'improvviso ti ricordi una cosa stranissima perché dici oh mio dio l'unica volta che sono stato attento in classe e ti ricordi che i nuovi programmi per di computer per far sì che tutto sia abbastanza visivamente bello viene messo qualcosa sopra il modello poligonale chiamata texture e all'improvviso ti viene in mente che ha l'aspetto di una texture quindi è come se qualcosa di fisico e poi ci sia stato applicato qualcosa sopra e quella crepa sia una texture in realtà allora nella testa di Brandon per quanto ha capito che cos'è la texture è tipo un adesivo sì quindi il 99 ma queste robe non erano così sì erano molto più sì sì c'erano dico però non erano così di comune conoscenza no no infatti ha detto ha fatto il tiro della madonna ha detto quindi tiro fuori cioè cerco di tipo toglierlo via senza tagliarmi in modo se riesco a toccarlo e tirarlo via tra virgolette ci provi continui e più ci provi più è è reale cioè forse te lo sei solo immaginato forse ormai è la paura di tutto questo però cioè è reale cioè quasi quasi puoi tagliarti se ci vai troppo di forza ti puoi tagliare lo sento lo sento che c'è sì 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 esatto ok e mi guardo intorno c'è tipo una finestra o simili c'è una finestra ma è una finestrella di quelle piccole di quelle alte di quelle alte piccole ok niente appunto sono andato in bagno anche per vedere se c'era tipo un'uscita da uscire da dietro però non c'è evidentemente il dolci passo da quella finestra forse con qualcuno molto molto mingerlino di voi ci potrebbe forse passare io non ci passerò mai è impossibile cioè è impossibile tu c'entri con la testa e basta rimani lì con la testa niente cioè tocco lo tocco lo specchio giusto lo tasto un po' tutto riguardo dietro tutto come era come c'è comandatore guardo la crepa la ritocco ancora un po' ok si può staccare lo specchio lo vuoi portare dietro sì tecnicamente puoi è appeso quindi puoi sì l'hai fatto prima l'hai spostato no sì però pensavo fosse fissato solo sopra sai in realtà è fissato con nastro tipo biadesivo potente però ovviamente lì dà tempo e col freddo tra l'altro fa ancora più fatica a rimanere quindi sì in realtà con un po' toc lo stacchi lo puoi portare via me lo porto via ok stacco me lo porto fuori fammi un test di forza giusto per non spaccarlo la serie non vogliamo essere notati stacchiamo lo specchio dal bagno non gli bastava non gli bastava lo specchietto piccolo che ha quindi è uno grosso 5 ok sì sì anche perché ce l'ho io ancora lo specchietto riesci a staccarlo dal muro senza tipo muoverlo troppo e piegarlo e romperlo quindi adesso ce l'hai esco immagino che la porta c'ha la maniglia o ha la maniglia allora col gomito tiro giù e all'indietro esco fuori dal bagno con questo specchio in mano ok e riprendo Robin in realtà vogliamo far tutti pausa un attimo oppure vogliamo continuare lasciamo un attimo in bagno pausa tutti uguale io posso continuare a far pausa come volete io intanto voglio far 5 minuti proprio sì dai va bene 5 minuti pausa anche il tuo rispetto esatto 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 mettono esatto vi lascio un attimo in brb tanto gente via a meno che non vuoi trattenere tu che vado anch'io a sto punto andiamo tutti guarda un secondo solo un secondo e ritorno subito se mi dai un secondo torno subito e allora ok intrattengo io finché ok che stiamo qua ok vi sta piacendo ragazzi nel frattempo vi sta intrigando salvia morduk sei arrivato adesso nel clue nel clue della pausa in realtà perché abbiamo appena appena voglio il sangue no è un horror leggero non c'è splatter c'è tutto il dubbio psicologico tutta la paranoia forse non c'è sangue no comunque in generale devo ammettere che abbiamo un cast di eccezione cioè l'integrazione che si è creata all'inizio che ha un po' portato e poi tutti è certo quello è l'obiettivo sempre in ogni one shot poi l'obiettivo è ucciderli tutti sempre e no ammetto che a caldo mi sono sono stati tutti bravissimi è stato un cast eccezionale perché sono riusciti a mantenere i personaggi e nonostante all'inizio perché appunto è tutto un build up come si può notare a situazioni sempre più strane però mi è piaciuto tantissimo anche i momenti di tranquillità che hanno fatto che sono stati al bacio sono stati beh vi lascio anch'io allora a Miss Croft un attimo tanto arriverò vado in bagno anch'io torno subito ciao Marduk ciao chat ho i poteri adesso posso rispondervi ancora non ritorna buonasera buonasera adesso riprendiamo che volevi fare che volevi fare avere il predomino sulla chat e basta vai 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 come qua io ho bisogno ma mordo come voglio il sangue basta sangue basta io ho integratore tipo per sopravvivere oh bellissima sì sì tipo adesso moriremo tutti no ma non è roba di sangue o morte è roba di è psicologica ma in realtà si esatto è horror horror è horror nel senso di paura proprio intanto penso che ci possiamo dire le riflessioni nostre attualmente fino a quello che è successo sì sì vogliamo tenercelo per noi no a me piace cioè se possiamo a me piace tenerle in cara se vi sta bene assolutamente sì 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 è fico è fico l'unica cosa non ti dirò neanche capito in realtà ma più che altro penso che il mio personaggio a quell'epoca soprattutto si è abituato a avere tutti gli sguardi addosso sì anche per questo l'ho ruolata un pochino più tranquilla però aspetta sguardi addosso ma non di fari ma il faro può essere anche una roba psicologica no no sì ho capito però era tipo gli occhi a forma di faro proprio c'erano gli occhi così proprio con la luce proprio con la luce cioè mi sente Ghostbusters ah grazie grazie può essere anche l'impressione nostra tipo alla Ghostbusters non so se ci avete presente la scena quando ci sta lo spettro con le luce no forse qualcosa l'ho visto una volta quando ero piccolo non mi ricordo più cavolo no quello l'ho visto dovrei rivederlo dovrei rivederlo quello me lo ricordo Ghostbusters ma cosa me lo ricordo comunque ha detto Morduk che ha sentito una parola diversa da integratore cosa hai sentito diverso da integratore mi bravo avrò sentito quello no non ce l'ho attualmente poi il caso non dietro eh no però no effettivamente no senti l'altro forse pezzo non hai capito ok non si può rivedere vabbè no non si può non si può non si può bene torniamo a noi facciamo un semi rewind in realtà nel frattempo che Brandon fa tutto questo Robin arriva dalla signorina sì sicuramente mezzo inciampando tipo in inizio non la guardo semplicemente arrivo ah già non sta al tavolo sta vicino mi siedo c'è una sede vicino a lei o sto in piedi puoi stare in piedi al momento era tra virgolette l'unica sì 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 ok mi metto vicino a lei guardando davanti le bottiglie prendere l'iniziativa e dice vuoi dirmi qualcosa? vado a fare il taccuino scrivo le mostro il taccuino di sfuggire e scrivo hai notato anche tu semplicemente guarda il tuo taccuino e cerca di prenderlo dimmi te se me lo lasci oppure vuoi fare una prova di destrezza dalla faccia penso di no no non glielo lascio ok prova di destrezza allora di agilità scusate di agilità di agilità di 4 ovviamente di 4 più un di 6 potrei tornarlo sulla mente al mio fritto del nodo cadavere 2 sul di 4 e 4 sul di 6 ok lo tiene sta cercando di tirarlo però tu riesci a stringere bene meglio e quindi c'è tipo questo momento di intensità dove ognuno vuole tenere il il diario per sé cosa stai facendo? voglio vedere quello che hai scritto avrai avuto possibilità di notare meglio quello che ti accade intorno con che tono lo dice? esattamente cioè tranquillo quasi senza emozioni cioè è proprio monotono tipo monotono not at all I fucked up here guys riesco a riprendermelo il taccuino o siamo lì c'è un po' lì però puoi farmi una prova di forza voglio provare a riprendermi il taccuino voglio provare a riprendermi il taccuino 4 sul d4 quindi esplode suppongo un altro 4 sul d4 lui esplode intelligenza io esplode esatto di forza l'opposto l'opposto quindi 10 sul d4 e 4 sul d6 ok si si hai toccato anche i punti di pressione il d4 è broken raga devo tenermi di 4 in tutte devo tenermi in bro glielo strattoni via e senti che ti tiene per un attimo e poi tipo quando sente che non riesci più a tenerlo al posto di romperlo lo lascia apposta e in quella in quella muvenza un po' di casino effettivamente voi sia Lucy che Katrin notano questo momento di tensione ok io mi avvicino verso di di loro perché lo vedo tipo come se l'ha aggredito praticamente sta dicendo beh vedete semplicemente di scatto si vedete semplicemente momenti di scatto tipo momenti di schiena e allora quando lo vedo tipo in difficoltà mi avvicino subito prendo la mia giacca la mia chitarra e mi avvicino io mi avvicino tranquillamente si è cambiata l'host che va anche bene all'improvviso è preciso esatto ok gli spiriti a posto e quindi scusa gli andateli di fianco si io gli vado prendo la giacca la chitarra la borsa quello che c'ho è lo zaino anzi mi avvicino verso mi avvicino più indietro cioè resta un pochino indietro che se succede qualcosa o qualcuno mi faccio mi faccio robin tutto bene guardo vera cosa cosa sta facendo in questo momento sta guardando te e poi tipo si sposta un po' per vedere cioè per avere un po' di spazio e vedervi il possibile più insieme quindi guarda un po' te poi si gira verso gli altri guarda un po' tutti però è tranquillo è impassibile ho fachappato ho fachappato ho fachappato ho sbagliato pensavo fosse un'altra cosa questa ok io non dico niente sono Lucy mi vedi completamente tipo non ho idea di come raggiare sto capendo cosa sta non sto capendo cosa sta succedendo ma sto capendo che ho sbagliato a capire questa cosa però non ho idea di come sistemare le cose questa qui evidentemente è dalla loro parte qualsiasi cosa sia alla loro parte vi riguarda e in quel momento sentite appunto tra l'altro aprirsi la porta e brandon con uno specchio io sentite sentite si è rotto lo specchio si è rotto lo specchio no 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 si è rotto lo specchio Cristo Dio esco fuori con sto coso ok io Peter eh si si è rotto lo specchio non ci sto capendo più niente questo che Robin che sta mezzo scioccato questo riesce fuori con lo specchio io voglio soltanto andare via voglio tornare a casa si fate vai vai scusa guardo Lucy che Lucy stai cioè dai segno di questa cosa di voler andartene via si 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 ma da prima proprio per caso vera magari tu magari tutti quanti stanno guardando verso brandon con lo specchio suppongo si ma la maggior parte si vera è un pochino più cioè lo sta guardando ma allo stesso tempo sta guardando un po' tutto però si il resto sta più o meno guardando tutti brandon io faccio tanto così velocemente a Lucy e poi prendo e vado ok ok io lo si io volto a passo veloce ok intendo si 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 ok che è un suicidio ma non ci provo io faccio cenno anche agli altri due faccio cenno agli altri andiamo io ho una domanda al massimo vi aspetto all'ingresso avendo fatto comunque molti lavori la persona X l'ho mai vista vero non ho mai dato il giornale al mattino ho letto il nome da qualche parte questa è lei come è interessante devo soltanto decidere che tiro a farti fare se intelligenza se morire adesso più tardi no facciamo spirito ok facciamo spiriti di sei non è che ti cambi molto eh facciamo spiriti no ma serve a me mentalmente eh sì sì eh serve spirito eh sì spirito e ti do anche un più uno serve un tiro serve un sei oh sei sei e cinque bellissimo la guardi e sai di aver sai di averla già vista è è è è troppo familiare e c'è c'è qualcosa in lei che ti dice come se fosse fosse con te da tipo una famiglia tra virgolette hai presente tipo il parente vecchio che non vedi però sai che c'è è quella sensazione di familiare che però non non è non è sentimentalmente legato a te e per qualche motivo ti viene in mente un ufficio un ufficio non tanto distante da qua anzi ha tipo due strade di distanza e sai che l'hai vista lì e soprattutto che devi andare lì è è lì che l'hai vista è lì che devi andare e sei sei sicura devi andare lì per qualcosa tra l'altro ok e allora vado come se ignorassi tutti all'improvviso vado ok esco vado verso di là stai stai appunto viaggiando per raggruppare gli altri che stanno uscendo o comunque sono nel mentre di uscire o stanno stanno già uscendo e senti vera dire bene intanto sai dove ci troviamo dillo anche agli altri faccio così proprio mentre mi allontano l'ok vado che lo veda e chi lo vuole vedere lo vede cosa eh Brandon è ancora di là con lo specchio io sono in piedi con lo specchio e sto andando verso il bancone fondamentalmente vedi vedi Peter che prende lo specchio e ti fa no non ti preoccupare vai pure ci penso io qua ok prendo prendo io prendo il giacone della scuola ovviamente stiamo andando via tipo guardo guardando loro non c'è più nessuno eh si è rimasto di conferma stiamo via stiamo andando sguardo ma siamo voltati si 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 chiamo tipo 3D io sto guardando verso di te nel senso ah ok però non siete che riuscite gli siete riusciti siamo alla porta siamo alla porta io li guardo vedo che sono anche loro tutti bardati stiamo aspettando te praticamente mi avvicino faccio che è successo non lo so ma voglio andare a casa mia sto qui vicino quindi adesso andiamo a casa mia ok beh io in realtà non credo verrò con voi a meno chi vuole venire con me indagare credo di conoscerla no aspettami aspetta un secondo credo di conoscerla credo di sapere dove lavora sono abbastanza sicura di dover andare là ragazzi ma i film dell'orrore l'avete mai visti iniziano tutti così ok faccio proprio mettere il dito per zittire l'usino in bocca zitta un attimo e mi ha detto anche che anche voi dovete venire con me quindi io ci vado per ottenere soprattutto risposte quindi ma lei chi occhi sgranati indico il bancone proprio la super gnocca che salta il bancone vengo con te ok io mi guardo Robin è un ufficio non lontano da qui quindi poi dopo possiamo anche tornare a casa tua lusi senza problemi si spera lusi vedi che io non li lascerei mai soli quindi che ragione un attimo io ragione un attimino guardo tutti quanti in mezzo alla tavola calda mi penso no noi stiamo vicino alla porta stiamo si siamo più verso più fuori si si guardo tutti nella tavola ah ok sono vicino a voi tutti quanto e guardo Catherine sono terrorizzato a morte ma non si torna più indietro sono sempre voluto scoprire qualcosa di questo genere poi e comunque siamo fottuti inutili sanno già tutto di noi quindi guardo lusi andare a casa non aiuterebbe a sto punto ci andiamo dopo tranquilli evito non li lascerei mai soli quindi assolutamente evito malincuori e senza voglia li seguo io master e ho evitato proprio di dire il fatto che ci aspettano tutti e che sono tutti già lì proprio ho solo detto ci aspetta ma c'è vuoi per dire che sono X erano detto le persone gruppo satanico o altro ci aspetta spero che non fa rendere troppo nel palco io lo so io comunque l'ho detto e ho cercato di farlo sentire il discorso che i film dell'horrori cominciano tutti così ho visto che nessuno ha fatto ragazzi uscite uscire uscite e iniziate a camminare c'è un po' di vento fa un po' di faticate dovete tipo un attimo accucciarvi per coprirvi bene esatto per non proprio venire spazzati via dalle folate sotto braccio le ragazze per evitare che volino da qualche parte che in realtà forse è più bene per Robin perché Robin tipo è sì e iniziate c'è Brandon con le ragazze e Robin dietro esatto queste due volte qui non ce la ferro esatto state appunto camminando facendo fatica il vento vi tira e per un attimo vi girate verso la tavola calda un po' tipo per dire siamo scappati a quell'orrore e vi sembra di vedere che siano tutti in piedi al vetrina a guardarvi all'improvviso per qualche strano motivo vi viene anche in mente non avete neanche pagato niente non avete neanche mangiato beh no dopo quella roba dopo ok e all'improvviso notate che sì è vero c'è vento ma non fa così freddo e in più notate che tutti vi stanno più o meno guardando è vero che stanno camminando per i fatti suoi quei pochi che ci sono ma lo sguardo ogni tanto soprattutto quando non state guardando tipo quando avete la coda dell'occhio vi fissano ok che tipo di sguardo però eh incuriosito barra di controllo come se eh siano interessati ma lo stesso impauriti se fate qualcosa di strano non è uno sguardo che mi stupisce in quegli anni quindi un po' come se ignorassi quegli sguardi e proseguo sì sì ma dopo aver visto tutto eh lo so però comunque per il mio personaggio lo so che ho fatto dei fari ma essere fissata o giù o con sguardo pretentore o altro è normale per quell'epoca purtroppo quindi ignorerà la cosa Katrin in quanto abituata il mio quarto intorno ok poi riconosco tutti so dove abitano impanicato hai stepio cioè io sto lì tipo c'è qualcosa attorno a noi master magari il mio genio della fisica mi fai notare tipo comincio a osservare tipo la neve sta cadendo nel vento poca ma si io comincio a osservare mentre avanzo intanto che non c'è meno forehead eccetera se ci sono delle cose che non stanno funzionando fisicamente come dovrebbero c'è oltre alle persone che non c'è altro ok ok fammi un tiro di intelligenza ok sono un premio nobel della fisica non so se ti do il più all'aperto mentre stiamo camminando allora ho fatto un 9 su di 12 c'è il 6 su di 6 quindi lo vado a scodere sì sì però già tipo già il 9 è bastato 3 quindi 9 9 più 1 10 10 ok sì 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 sei lì che stai controllando ogni singola cosa cioè controlli le persone controlli il cielo controlli la direzione del vento se è possibile che si incanali nelle strade in quel modo controlli le luci se se vengono oscurate bene dalla dalla luce delle delle nuvole controlli i fari controlli qualsiasi cosa siete arrivati effettivamente a questo ufficio e siete davanti a questa porta un po' lì così guardi il tuo fianco non è mamma mia ok non dico niente per adesso lo tengo per me però ok lo tengo per me per adesso è questo ufficio assomiglia un po' una banca tra virgolette cioè tipo alle tipiche porte a vetro scorrevoli eccetera e per quanto sia buio se fate un po' di fatica a vedere dentro la vetrina notate che c'è tipo una piccola scrivania con una signorina al buio che tipo sta vivendo o facendo qualcosa su un computer e è un po' strano però se vi avvicinate abbastanza vedete le porte è tutto vetro tutta la parte di lei no dietro di lei c'è il muro diciamo che l'anti l'anticamera della stanza è tutto vetro poi c'è una porta quindi è muratura ok non c'è modo quindi di vedere attraverso il fuori il monitor e anche se mi metto proprio all'angoletto sì no puoi intravedere qualcosa ti posso fare un tiro sì dai diciamo potrebbe essere agilità ok bleh 2-1 i beni mi ritengo a questo giro quindi non vedo niente c'è sì c'è c'è neve eccetera in più semplicemente vedi che lo schermo è luminoso quindi forse anche la rifrazione sul vetro non ti fa vedere effettivamente bene tra l'altro è il tipico cosa catodico gigantesco degli epoca quindi io provo riproporre però l'azione agli altri dico ragazzi vedete qualcosa attraverso il monitor forse dovrei comprare degli occhiali non vedo molto bene da qua io mi sporgo guardo a chi vuole può farmi in testa di agilità agilità c'ho il d6 ma qualche di guai basta che scoppia sapevo era un 4 infatti era un d4 infatti ha scoppiato d4 sono fortissimi sto gioco 4 e 3 7 e 1 su d6 io c'ho 2 di 6 un 6 scoppia e ho fatto 2 quindi 8 ok Robin e Lucy iniziano a vedere qualcosa è ancora difficile capire cosa stia facendo però sembra più un foglio calcolo con dei numeri con dei dati come se stesse progetta cioè facendo una progettazione per un un lavoro tra virgolette cioè come per mostrare dei grafici e dei dati di un lavoro che sta compilando ok e tu lo notiamo io e chi? Robin e Lucy Robin e Lucy ok ok io aspetto che Katrin faccia qualcosa con la tipa credo siamo fuori ancora ci siete ancora fuori ah scusa no aspetto che Katrin faccia e io chiedo quindi boh niente non vedo nulla non so sei tu che stai guidando la cosa non so cosa sai del tipo di prima della situazione andiamo dentro a indagare allora se non avete visto niente andiamo dentro vediamo un po' ah no scusa è vero scusate avevo capito mi ero completamente dimenticata il fatto che hai posto la tua domanda scusa no scusa non do perché sto lanciando tipo mille teorie nella mia testa in questo ho capito teorie cinque volte questa sessione felice è bellissima veramente è sto tipo la mia testa va bene diciamo qualcosa ti calcoli ho visto sono numeri forse sta organizzando qualcosa non lo so non so no no io entro faccio segno quindi assolutamente seguo dietro tutti se posso sì tu non entro io ti faccio segno di entrare aspetti che entro io sì sì per ultimo ok io la metto per terzo diciamo entro per terzo la gag rimane una lita mezz'ora esatto esatto entrate e senti le porti si richiedono entro voi e soltanto quando le porte si chiudono all'improvviso sembra effettivamente riconoscervi più che riconoscervi notarvi mi guarda guarda l'ora è un po' presto cosa siete venuti a fare qui ma questa è la tizia quella del bar è un'altra è una segretaria è un'altra giovine sì abbastanza giovane capelli biondi sotto specie di tagliere rosso e qui noi non siamo mai entrati prima in vita nostra potete farmi un tiro di spirito per vedere se avete qualche membranza però al momento così no niente mi ho fatto sei ho fatto un sei sei scoppia cinque risparmi di ora normale o esperto di alieni mi aiuta in qualche modo no ma non credo un ricordo un sesu di otto io chiedo c'è ragione c'è ragione sto controllando ma questo è più spirito Lucy puoi avere un più uno per coordinata ok quindi ho fatto sette vabbè o magari è uno svantaggio tipo che mi spezzo con un gris io non so se c'entra non so cosa no 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 non credo no non penso però no solo quello sette io ho fatto undici ah ho fatto undici ma io sempre per il fatto dei lavori non mi può valere quel dato del destino ho fatto sei e poi ho fatto cinque eh no hai ragione anche tu un più uno sì 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 ho fatto un tre e uno ok e allora Lucy e Brandon avete una strana sensazione di esserci stati è come se parte eh degli vostri studi siano passati di qua come se parte della conoscenza che avete sia arrivata da qua non so se magari un chirurcino magari un professore che viene da questa azienda qualcosa suona famiglia io che di solito non dimentico un volto femminile mi giro e allora ci siamo già visti siamo usciti insieme beh almeno si ricorda anche la faccia almeno credibile anche anche eh guarda e fa ah ho già capito prende un tasto e le porte si aprono per un'altra stanza ok te volevo parlarlo un attimo prima di io mi guardo semplicemente io non ci voglio stare qua all'affermazione di Brandon semplicemente preme il tasto e si apre la porta ma non risponde di altro però potete tranquillamente parlarli non è che vi lancia sulla porta ok cioè io anche sta cosa qui soprattutto quello che ha detto adesso cioè io non voglio stare qui sinceramente quindi me li riguardo tipo della serie dai andiamo via quando vedo che entrano faccio ok vabbè io prima di entrare parlo un attimo con la tipa io aspetto che sì sì e Brandon è rimasto confuso perché non ha risposto alla sua domanda quindi è rimasto tipo ok sai ci hanno detto che dovevamo venire qua una ragazza e le descrivo vera e non sapendo il nome le descrivo solo l'estetica vera vera ok sì vera credo sia così vera era vera quindi sì non dimentico neanche un nome io però per sapere perché dovevamo essere qui non mi ricordo cioè so che dovevamo essere qui ma non mi ricordo sì io dico una cosa quando dici questa cosa tipo sussurro ma un po' tipo che si sente è un test ti fa un piccolo cenno e fa potete andare adesso ha un test e comunque ti ha fatto un piccolo cenno per dire non ci sei distante non so se essere cioè Robin non sa se essere fiero di se stesso tremendamente terrorizzato da questa cosa abbiamo detto che sei per più un ufficio bancario poi ovviamente vi ha aperto no no ok ci ha aperto la porta quindi grazie e mi ha proprio un po' per entrare da una pacca sulla spalla a Lucy per rassicurarla un po' entro c'è detto comunque di entrare nella stessa porta che aveva aperto prima non hai cambiato porta dopo che hai detto no 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 ok domanda vai sparami tutto dimmi ma esistevano già gli escape escape room probabilmente di concetto imprenditoriale come c'è adesso non così tanto ma c'erano comunque dei treasure hunter o lo del genere quindi si tecnicamente potrebbe se il tuo personaggio vuole pensare questo è fattibile in quegli anni ok allora mi giro verso Lucy e faccio è come essere un escape room potrebbe essere sì ma lì di solito ci voglio andare quindi io non ci voglio stare ok ma non puoi neanche tornare a casa da sola no non vi lascio qui è differente Katrin è già andata eh no vi sto seguendo e la faccio e la faccio proprio per spingerla un po' strammatizzando però anche lui è preso male però puoi vedere che Lucy è un po' tre c'è vicino alla porta guardando cioè che siamo tutti vicini alla porta e prima di entrare facciamo un attimo tipo sempre guardando la tipa e vicinandomi agli altri tipo per la sottovoce avete presente Toy Story? un gran cartone animato che c'entra adesso? alla mia scuola la Columbia e anche per conto mio ho visto un po' di simulazione sì Toy Story era per farvi capire non pensavo fuori non c'era il l'alito il mio respiro e Dai appena ha chiesto appena chiesto se ha detto che non era contenta quando tu gli ho detto chi è io credo che io credo che siamo in una simulazione e che vogliono che scopriamo che siamo in una simulazione o qualcosa del genere simulazione di cosa non lo so non lo so non lo so Matrix era già uscito domanda se non era ancora uscito sì esatto sì Matrix no credo che sia il 2001 sono sicuro che erano 95 99 ah ok no no 99 non ricordo diciamo che è uscito vediamo il giorno che è uscito è già uscito che giorno è adesso? è gennaio ah però magari se non hai già i trailer in giro sì no beh può essere dai mettiamolo chi se ne frega anche se è una cronistica va bene sì 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 ci sta allora allora c'era già l'idea perché magari cioè io adesso ho pensato ok sono studenti di fisica adesso magari c'era già l'aria ha detto magari può essere una teoria facciamo adesso non cd trailer perché è uscito se c'era aria di Matrix sì 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 proprio ragazzi sapete che c'è io amo queste cose ma in questo momento non trovo un'altra spiegazione ma la trovo ok non ci resta che entrare ma Katrin Katrin è già entrata sì sì sono davanti ah tu sei già io pensavo ti fossi fermata lì davanti no io sono entrata vengono ah tu sono entrata c'è proprio no no aggiungiamo Katrin quando Roby ne vedo che continua a chiacchiare faccio guarda Katrin è già sta dentro sono ingrati attorno e ricordatevi potrebbe non essere reale tutto questo sì va bene andiamo e li spingo non ne sono sicuro però notate una stanza piena di fornitura da ufficio quindi tavoli computer non so piante di di gomma roba del genere e nonostante tutto sia abbastanza standard c'è una cosa in particolare che tutti avete proprio appena siete entrati avete la sensazione di sapere dove andare e appena lo vedete sapete anche cosa dovete fare ed è un ascensore un semplice umile a questo punto mi aspetto il sangue che riesce alla shining guarda sì praticamente quasi sappiamo anche che piano dobbiamo andare no ok perché non siamo ancora entrati entriamo esatto entriamo entriamo io premio pulsantino è aperto da premere pulsante premio pulsantino che pieno siamo ci sono telecamere in giro tra l'altro grazie mille gli introversi per il ride grazie mille bellini sono tipo din esatto eeeh no sì è il piano terra eeeh appena premi si aprono le porte ci sono telecamere in giro no almeno non che ne vedi conta anche che è buio pesto quindi però magari deve essere esatto quindi no sì c'è la luce del dell'ascensore appena aperto io faccio segno prego dopo di voi entro i tutti ok è un attimo a fare le cose da moderatore da bravo moderatore però lo spingete dentro così allora no 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 io c'entra ok 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 entrate e appena entrate sentite tipo che si aggiusta il peso dell'ascensore e le porte si chiudono però non sembra muoversi ci sono un sacco di tasti fino al ventesimo piano però è fermo dove andiamo? siamo al 20 quindi e clicco il 20 ok senza anche far ragionare con gli altri siamo al 20 sentite clock e pian piano l'ascensore parte state lì da solo senza spingere niente no ha premuto ha premuto ha premuto il 20 e aspettate un po' e i più percettivi di voi potete anche scegliere voi non mi serve il tiro sentono un po' particolare nel senso che di solito diciamo che si sa quando l'ascensore sale o scende e questo sta scendendo non sta salendo passa quasi un minuto interminabile attesa e finalmente sentite fermarsi e aprirsi le porte vi trovate in una sottospecie di bunker sotterraneo qualcosa del genere delle porte sbarrate tipo volte diciamo così per capirci cioè proprio in metallo spesso sulla vostra destra entrambe chiuse e due porte aperte dove vedete nella prima porta aperta alla vostra sinistra poca luce un po' gialla un po' rossa un po' come se ci fosse tipo un allarme silenzioso una sirena silenziosa che va e poi un qualcosa tipo azzurro white noise in fondo a sinistra e notate che in fondo in fondo in realtà si apre ancora di più nel senso che è tipo un incrocio a t però le prime cose che vedete sono due porte chiuse alla vostra destra e due porte aperte alla vostra sinistra ok io vedo dove c'era la luce gialla quella con la un minuto di allarme per capire cosa sta succedendo ti immergi per vedere dentro diciamo così ti mi affaccio mi affaccio devi entrare proprio mi affaccio giustissimo fai di spirito aiuto ok uso unverni 2 e 1 ok 6 e 5 ritiro il 6 ma è standard esatto e 3 quindi 9 e coccaraggio non mi dà più vabbè no si si beh ma comunque è riuscito si si esatto e guardi e per un attimo sei stordita da questa cosa e noti come se ci fossero marionette marionette molto umani cioè praticamente umani però svuoti come se fossero completamente vuoti e appoggiati come non funzionanti e noti che sono appunto due tra virgolette sirene che girano sopra e leggi in una specie di lingua strana perché in qualche modo la sai riconoscere e leggi stoccaggio e nient'altro chiudo la porta direttamente hai fatto anche il proprio sì 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 lei mi giro e mi guardo le mani perché a sto punto tutto quello che succede mi chiedo anche se io posso essere umana o no quindi provo a muovere un po' le articolazioni per vedere se sento suoni meccanici di degno qualcosa che non sia umano provo a scrocchiare le ossa per vedere se si scrocchiano ok ti dico già che non succede però nella tua testa è normalissimo tu sei sempre stata così ok così come così normale o così sì no nel senso che non scrocchia se non ok mi chiedo ok sì è normale ma è normale domanda o è come se fossero un po' troppo annebbiati comunque non sono troppo vecchia dal dire non posso ricordarmi niente di quando avevo 5 anni cioè tipo dovrei ricordarmelo abbastanza chiaramente ok qualche aneddoto qualche comunque facendo sport un dito me lo sarà rotto qualcosa sarà successo fai di spirito 4 questo lo tengo l'ultimo bene me lo devo tenere tutto l'hai usato due anni usati adesso sì abbiamo il primo alla tavola card abbiamo tre beni abbiamo a parte quando fai il snake eye non lo puoi usare poi ok ok vai indietro e noti che qualche ricordo effettivamente è nebbioso però c'è hai troppi ricordi cioè come come farebbe qualcosa che magari è stato creato ad avere così tanti ricordi sì c'è c'è in effetti qualche ricordo annebbiato però c'è e tutto il resto da dove salta fuori io tiro un pugno molto arrabbiata perché non riesco a capire effettivamente contro il muro con tutta la forza possibile vuoi farmi anche un test di forza più che altro perché ho avendo testa calda penso che a un certo punto rimugino 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 basta va bene faccio un test di forza per vedere se effettivamente vai 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 faccio male oppure c'è un pugnetto normale sì 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 ti do anche il vantaggio del tuo svantaggio perché in effetti testa calda qua ti porta a un vantaggio nel farti male ok l'ho pensata anche così e sei anche forte quindi addirittura due punti volentieri allora ho fatto sei ok senti il dolore però non c'è c'è l'abrasione standard non c'è niente di rotto o sangue o roba del genere però ti sei fatta male entravedo rosso un pochino cioè qualcosa vedo sì 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 e penso io mi avvicino io mi avvicino a lei gli prendo la mano per vedere se è tutto a posto gliela tocco per vedere se è tutto a posto e faccio ma Katrin ma che cosa stai facendo? non entrate lì dentro nel mentre che Katrin faceva tutte le cose e guardava i manichini nel mentre faceva tutta questa roba qua io mi avvicino alle due porte chiuse quanto distano le due porte chiuse? sono abbastanza vicine? allora la prima è subito lì di fianco a voi quindi sì assolutamente vicino l'altra dovete fare una decina di passi per arrivarci ok allora vai prendo la prima porta chiusa e cerco di aprirla la apri abbastanza tranquillamente ed è tipo una sala mensa molto piccolina tipo una sala da inservienti diciamo così dove si ritrovano per per stare tranquilli e hai un piccolo flash hai proprio il flash di vedere qualcuno seduto che tipo sta controllando sta aspettando qualcosa ti riprendi un attimo è una sottospecie di marionetta ben fatta umana però seduta su ha una sedia è lì così ok mi avvicino ok e la tocco è fiscia fredda proprio come se fosse una marionetta di plastica magari ma tipo i manichini quelli che li vestono dei negozi sì l'unica cosa che è vuota cioè è aperta qua sullo sterno e sulle varie giunture ed è vuota all'interno però il resto sì è tipo il crash test tipo le marionette dei dei manichini queste cose qua fatta da dio però sì sì sul tavolo non c'è niente qualche bevanda qualche sigaretta ma cioè proprio tangibile non finta non mi sembra tipo mi viene in mente magari il set tipo set di cinematografo capito magari tutto finto no no è vero è vero ok e la stanza è piccola mi hai detto non è sì 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 è proprio se si starte in 5 è già piena è un miracolo così esatto e allora però c'è solo questo manichino qua ok io allora esco dalla stanza e vado nell'altra nell'altra senza darmi troppo peso ok e apro l'altra stai un attimo lì a tirare e in effetti fai veramente tanta fatica e puoi provarmi tipo a cercare di sfondarla o sì sì ok vai una spallata sì 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 beh qua io non giocherei il vantaggio giocatore di football con la spallata sì 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 giustissimo io vado una domanda nel mentre vai vai dimmi questo coraggio ha chiuso la porta quindi non dico se i manichini mi sembravano cosa X lo chiedo come se Katrin è andasse a ricordare li prendete un disu in un attimo quindi ti chiedo i manichini avevano sembianze di qualcuno che riconoscevo cioè le marionette perché tu non erano marionette sì 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 e avevano dei fili no non avevano fili e ti posso dire che probabilmente non ne riconosci nessuno però allo stesso tempo noti che sono fisi comuni fisi che potrebbero essere indistinguibili da qualsiasi cioè tipo sì 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 esatto letteralmente scusa quanto hai fatto sei sei no non infatti è ben chiusa e soprattutto è in ferro quindi se o hai la fortuna di scardinare tipo la quello che divide tra virgolette oppure non non la butti ok a me sto proprio nel panico e confusione mentale più totale a un certo punto rendevo attacco di panico e mi metto in ginocchio per terra e comincia a piangere proprio sto proprio in panico non sto capendo cosa sta succedendo mi sento tipo pressa poche parole quindi io non ci vuole perdono perdo il controllo sì esatto non posso scendere non lo dico non lo dico però no non io ti dico ragazzi vi prego torniamo a casa vi prego io prendo un profondo respiro tutto questo accade trago tutta la calma interiore e faccio dei lunghi passi verso la porta la seconda porta aperta che è quella da cui viene la luce blu posso capire forse è l'intersezione attica c'è la luce blu no no c'è la luce blu ed c'è anche una luce tipo bianca white noise hai presente tipo il bianco ah erano due cose diverse ho capito c'è una luce blu e una luce bianca white noise guardo prima dentro la porta no ma sono nella stessa stanza sono due luci diverse allora c'è un corrido due porte aperte due porte chiuse e in fondo un'intersezione a T ok la luce blu barra barra bianca da dove viene è la seconda porta a sinistra ok mentre il corrido da T non c'entra niente non c'entra niente vado a vedere la stanza con la white noise blu entri fammi una prova di di spirito ok e ti do un 1 e un 4 ok ti do anche spenderò un Benny questa volta ok ti do anche più uno ah mi da un più uno il Benny no ti do un più uno e io di alieni alieni paranormali devo ma il Benny lo posare per ritirare o per cambiare possibilmente per quanto puoi qualche evento no 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 voglio sempre ritirare ritiro un dado tutti e due le due le due ma i successi scusate perché non ho ancora ben i successi si annullano è come se ripartissi ok ma con un 5 ho già un successo ogni 4 vabbè allora ok me l'avevi già spiegato altra sessione ma non ok ah beh ci sta ok no allora mi tengo questo qua allora faccio ok eh grazie guardi eh inquortura è una parola grossa eh nella tua sensazione sai che questo è il tuo posto sai che questo è proprio la stanza non proprio il posto ma questa è la tua stanza e vedi uno schermo gigantesco con eh il mondo tra virgolette il mappamondo tra virgolette illuminato e vedi un sacco di punti tipo una sottospecie di quasi o comunque città e sai per certo che c'è un diario di bordo di quello che sta accadendo lo vado a prendere ok ti avvicini e noti che appunto questa luce blu deriva da un piccolo schermo acceso e con varie parole e altri piccoli schermini tipo touch tra virgolette per capire a livello attuale che sono a white noise con il bianco bianco nero e la prima cosa che leggi subito un attimo che la devo andare a prendere è scritto mb pazio come tipo sottocategoria e c'è scritto blocco tecnologico data 12 31 1999 12 31 sotto ancora in verde molto chiaro vedi che lampeggia c'è scritto in elaborazione io ho già cioè Giacomo ha un'idea nel senso Robin ha già sentito del millennium bug o averlo sentito potrebbe averlo sentito ok sì assolutamente ok ok io guardo in giro per la stanza cioè cerco questo voglio studiare a fondo quello che c'è dentro questa stai un attimo toccando e appunto il white noise compare come uno schermetto e appunto vedi le varie note e leggi grazie al fatto che scusate grazie al fatto che molta della nostra tecnologia deriva dalle nostre invenzioni sappiamo come neutralizzarla in questa data sarà perfetta per creare questa data sarà perfetta per creare un caos tra le ulteriori connessioni possiamo bloccare completamente le tecnologie di tutto il mondo tuttavia abbiamo riscontrato come hanno come i nostri misere come i nostri collegamenti non siano appropriati perché hanno fatto del reverse engineering modificando alcuni sistemi potremmo utilizzare la rete internet per arrivare a certi obiettivi però è ancora da decidere speriamo che speriamo di arrivare al nostro obiettivo finale e che la paranoia e il blocco tecnologico ci porti all'obiettivo finale hai detto che oggi è il il gennaio il 20 gennaio ah già il 20 giusto ecco perché perché è perché ho premuto 20 ha scelto 20 giusto 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 ha senso nel frattempo che noti sai che ci sono altri altri altre date tra virgolette e sono la tua destra e la tua sinistra ovviamente sei praticamente sicuro che uno è prima e uno è dopo posso andare a vedere posso andare a vedere la la più recente di tutte la più recente di tutte sì la più recente di tutte è quella subito dopo c'è scritto TT barra sotto terrore e paranoia periodo tardo 2001 in approvazione con l'ultima come aggiornato dall'ultima nota il progetto MB non è nelle migliori condizioni potremmo potremmo non voler far calare la soglia di paranoia un attacco terroristico potrebbe essere eccezionale per poter sostituire i leader mondiali con i nostri sintetici ovviamente l'intelligenza artificiale non è ancora pronta li abbiamo copiati così bene che abbia che hanno gli stessi problemi di paranoia e emozioni degli altri vedremo di ottimizzarli e stiamo puntando soprattutto a simulare il più possibile in questi anni mi ripeti l'ultima frase no si si tranquillo credo di averla capito ma voglio dei sintetici non posso rileggerla io dai leader l'ultima frase è quella sull'intelligenza artificiale come era formulato ok li abbiamo copiati così bene che sono rimasti in paranoia e effetti in paranoia e sotto effetti emotivi c'è uno specchio che può riflettere c'è uno scusa c'è uno uno schermo che possa riflettere c'è qualcosina che può far riflettere è molto più difficile non è uno specchio però puoi intravedere qualcosa mi guardo mi guardo le mani finestre o cose all'esterno non c'è nulla no sì sì no lo so no lo so che è meno 20 però ecco se c'era poteva a questo punto potevano anche esserci le finestre guardate aspetta ci sono meno 20 gradi fuori ok 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 io non dormo stavolta raga io sento sento lussi che inizia a piangere andare in iperventilazione e dopo che ho provato a sfondare la porta faccio tipo penso che ci riprovo dopo e vado da vado da lussi ok ok io come mi si avvicina mi aggrappo tipo veramente quasi su crisi esterica anche perché veramente sto con l'ansia detto comunque ritornando in gioco c'era proprio Fabrizio sta con l'ansia e nel caos più totale perché veramente sto in confusione ho un paio di teorie ma una già me l'hai appena tolta comunque a parte questo ritornando e proprio in lacrime aggrappandomi al petto di Bren faccio vi prego torniamo a casa basta sei tranquilla e faccio tipo mezza carezza sulla testa sulla nuca adesso i ragazzi qua stanno cercando facciamo una cosa a posto che stare qua da sola vieni con me ok e l'accompagno verso la porta e riprovo a riprovo a sfondarla eh fammi fammi altra ok e mentre faccio una trazione mentre cammino ho un'arma bianca un coltellino tipo quelli guarda tutto contando il c'è il problema di andare via di notte eccetera si puoi averlo ok allora prendo un coltellino prendo il cuo di la lama e provo a dove già ho la ferita nonostante magari sentirò dolore o altro a scavare finché non vedo sangue che mi sembra effettivamente sangue anche di consistenza ok fammi un test di mi aggrappo proprio a tutto il coraggio possibile che può avere in questo momento una persona che si sta tenendo conto di fammi un test di vigore due ok arrivi ti tagli senti qualcosa colare ti guardi effettivamente ha la densità del sangue sangue questa è un'altra cosa difficile da definire perché all'improvviso ti chiedi il sangue di preciso perché hai ricordi che cos'è il sangue di aver sanguinato e così via però se vai nello specifico dici semplicemente la cosa più banale il crescere il diventare donna ho questi ricordi o so che cos'è effettivamente il sangue quando è stata l'ultima volta che ho sanguinato e questo ti tormenta e senti soltanto volare qualcosa pian piano ti copri ok non penso di poter fare il gesto di assaggiare il sangue per vedere se ha tipo quel sapore ferroso per il tiro quindi puoi? no no puoi in realtà e allora assaggio il sangue per sentire se ha quel sapore un po' ferroso che posso aver ricordato in qualche modo magari pallonate in faccia qualche rissa qualcosa ti faccio una spero di rifarmi capire senti che non ha il sapore ferroso ma è nella tua testa e sangue e sei certa che è sangue però allo stesso tempo però bene male un po' di università l'ho fatta quindi quel minimo di base da dire esatto no non c'è proprio ricordi di come è fatto di base lo so capito però avendo comunque in qualche modo assaggiato per me aspetta aspetta per me è quello ok però da quello che io so quel minimo di studio quello e quell'altro è come se nella mia testa e dico ok è quello si è quello esatto però mi sembra quello però rimane sempre quel dubbio del forse non lo è ti faccio ti faccio l'esempio è come se tu assaggiassi il sangue sai che è sangue dici ma dovrebbe essere ferroso e poi ti dici ma magari sono anemica cioè trovi delle motivazioni per cui non è per cui è sangue per me lo è c'è qualche motivo mio magari magari l'ansia non fa capire che è sangue e proseguo sempre verso il corridoio mettendo poi il braccio giù anche se c'è la sangue a terra non mi interessa attualmente sono un po' tipo in trans destra o sinistra? dato che è un corridoio a T cosa vedo sento sia a destra che a sinistra? allora se ti sporgi un attimo con il tra virgolette naso a sinistra senti una puta chimica assurda a destra vedi un po' di luci in fondo ma sono molto molto tenue un po' come se ci fosse tipo una lampada accesa in una stanza immensa quindi c'è un po' di luce ma non abbastanza da vedere effettivamente come è la stanza ora farò una domanda molto specifica per come stanno andando anche le cose quale sarà da me sembra più familiare? estremamente interessante questa domanda per qualche motivo alla fine sono venuta lì perché mi era familiare esatto per qualche motivo a sinistra ti è molto familiare è come quasi ci fossi nata ma sai che devi andare a destra scimpro a destra ok posso fare qualche tiro per vedere se posso andare dove sono nata oppure poi poi si si allora in cuor tu sai che devi andare a destra ma puoi fare quello che vuoi cioè hai il libero arbitrio oddio ok si si cuore quindi cosa tiro? no no puoi scegliere te dimmi te ok è liberissimo mi tiro anni 20 ho fatto sotto 15 quindi per me andrò a destra ok nel frattempo vedete appunto Catherine sparire dalla vista in realtà anche Robin è ancora lì preso da tutte le aspettavo ah vai vai dimmi ma aspettavo vabbè ok ok volevo leggere la nota prima ok e poi pensavo anche io di andare nel corredore quindi perfetto perfetto vedrò che entri in fuori eccetera si si allora la nota è OC trattino Armageddon 10 1962 stato fallito i sintetici sono un'ottima causa di clima di paranoia tra i vari uomini l'unico problema è che ancora non hanno la capacità di fare di fare attività complesse ogni tanto possono essere scovati ma ci stiamo arrivando stiamo arrivando al punto che sono indistinguibili da loro nota di chiusura purtroppo il processo è fallito nonostante avessimo un nostro sintetico in un sottomarino militare non siamo riusciti a far partire la nucleare forse gli umani forse hanno capito qualcosa meglio chiudere qua continueremo a lavorare i sintetici finché non arriveremo a uno stato sofistic sofisticamente sofisticamente sofistic accettabile accettabile valcatroia accettabile ha detto forse gli umani possono capire ho capito bene si guarda il mio taccuino ormai è talmente è talmente assurda la situazione che non sto più neanche tremando non si mando cioè è quando arriva in certo punto che non è non ha più neanche senso ti ci abitui ormai si non ha più ho superato quel punto certamente e mi scrivo tutte quante le note che vedo mi copio tutte quante le note o almeno le parole principali perfetto ti faccio anche questa cosa siccome apri il tuo taccuino stai trovando la pagina libera per scrivere si e all'improvviso c'è una pagina in particolare che ti attira degli alieni gli alieni grigi i pc alieni funghi magri occhi grossi ti ricordi che il primo tra virgolette avvistamento era rosso e ti attira per un attimo e poi dopo dici ok con il resto a finire che avevo ragione la prima volta ti immagino ho cambiato 5 volte teorie per poi c'avevo ragione la prima ti immagino affan poi sono tutte vere il problema è che questi video andrà a finire che sono tutte vere dica dica io master ho fatto subito ho fatto 7 poi ho usato un bagno ho fatto 14 ok praticamente colpisci colpisci sfondi finalmente il cardine no il cardine vabbè il cardine si rompe e guardi ed è tipo una sala macchina tra virgolette oddio dove ci sono tutti i server praticamente c'è un sacco un sala server esatto c'è una sala server un computer centrale che sta elaborando dati e nient'altro però ti fa ti fa ti fa familiare nel senso che non so se l'avevo detto no non l'avevo detto a te ok vabbè comunque senti che parte della della tua conoscenza deriva da qua ok faccio lo segno a Lucy di di entrare e di venire di venire con me si dentro entro anch'io un po' ti dubbante però ok mi ricordo che te infatti l'avevo detto tu ti ricordavi che qualcosa venisse da questo posto e questa era questa è dove sei stata cioè nella tua mente sai di essere stato in questa sala sala server e aver imparato qualcosa da qua c'è un computer o comunque una tastiera c'è un terminale che sta andando è un terminale ok ok mi avvicino al terminale voglio vedere se riesco non sono esperta di computer però magari che ne so sicuramente ho imparato ho imparato qui qualcosa visto che è tutto assurdo magari sono ho preso anche abilità che che non conosco ok in fatalità sono causati computer cerchi cerchi qualcosa in particolare andando a istinto in poche parole come si è detto essendo già qui visto è tutto assurdo questo è cominciò a a crederci a convincermi e lascio andare veramente dopo l'istinto non so se il suo spirito qualcosa del genere inizia a premere tasti non sai bene cosa cercare continui e all'improvviso dici la prima cosa in assoluto che posso cercare è qualcosa di sicuro cerco me stessa e ti trovi trovi tutti i tuoi ricordi trovi dove abiti trovi che cosa hai fatto trovi che cosa dovresti sentire e provare in certe situazioni hai praticamente la tua vita in un file da come dovresti crescere quanto dovresti crescere le relazioni che potresti provare le sensazioni tutto io vienge sto guardando gli altri cerco gli altri provi tutti gli altri provi chiamo chiamo tutti provi non ci sono quindi provi no no proprio a strillare cerchè fammi sentire tutti venite qui io io vado fuori e urlo e urlo appunto i nomi di robin e di catherine io ignoro ok io non avevo notato catherine andare via non credo è dentro la stanza è dentro la stanza sì è dentro la stanza anche io arrivo un attimo da te catherine e poi arrivo dagli altri tu catherine arrivi in questa stanza c'è soltanto una piccola luce tipo hai presente le luci di servizio quelle quando è tutto tutto buio e si vede soltanto quella luce là una luce dietro di te la guardi come se fosse tipo una falena sulla luce più bella in assoluto poi tipo un po' militarmente ti giri verso una sottospecie di schermo buio e aspetti lì sai che quello è il tuo posto sai che devi aspettare un qualcosa nella a voce proprio catherine un tono normale e se fosse questo il mio lavoro cioè proprio ripensando alle frasi tutto quello che e se fosse questo il mio lavoro continuo a guardare il monitor aspetto ok ritorno dagli altri mi faccio entrare il robin ah scusa si no faccio entrare il robin e faccio parlare le luci perché io sono un attimo no robin non era venuto robin non era venuto no 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 chi è venuto sono arrivato da voi vi ho raggiunto e sono semplicemente tipo in questo momento sono tipo in passibile cioè sto guardando in terra pensando a cose guardami io senza parlare con la mano sulla bocca veramente il stato di shock gli indico il terminale vedi quello che hai già descritto quindi persone su persone voi molte altre vita morte quello che provate quello che non dovreste provare i vostri hobby la vostra vita quello che succederà anche dopo guardo tutto il resto della stanza non ho neanche una reazione perché avevo cioè è un'ulteriore conferma a quello che già avevo capito leggendo le note di prima cioè che già avevo confermato leggendo le note prima di io sì io ho una più che altro quindi io ho una reazione io ce l'ho sì sì no sì sì dicevo non ho una reazione e in giro per il resto della stanza noto qualcos'altro di potenzialmente utile no è una stanza server quindi ci sono soltanto server e questo terminale allora senza dire assolutamente niente io esco se vado verso l'intersezione AT molto lentamente quindi se gli altri vogliono seguirmi o fare altro possono farlo io cammino calmo cioè calmo in senso di a ritmo calmo sì 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 se ti guardi un attimo sì se ti guardi un attimo a destra e sinistra tra l'altro noti Katerin distante in una stanza ferma a guardare il vuoto tra virgolette io faccio una cosa in stato di shock comunque come ho detto veramente quasi sguardo tipo zombie cammino veramente braccia a penzoloni quasi veramente come uno zombie vado ritorno da stanza dove ero prima al corridoio prendo la mia chitarra perché penso ci siano altri oggetti dentro a c'era la sedia nel posto ristoro diciamo no no nel senso la vicina la stanza no no ci sono server e il terminale il primo oggetto che trovo è che comincia a darlo sui server praticamente in stato di pazzia proprio se vuoi farmi in testa di forza allora devi fare un test di mina perché c'è un d4 diciamo sto proprio in ho fatto un 4 e un 3 ok hai fatto il d4 col d4 no ho fatto il d6 no se no lo dirò ah ok ok inizi a colpire colpire e vedi che e anche sul terminale si si no dappertutto e vedi che tipo pian piano ti rimane soltanto la parte delle corde in mano la 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 chitarra completamente distrutta completamente distrutta e e se lì che comincia a fare no non è vero questo è un incubo adesso mi sveglio e mi do tipo i colpi in testa proprio io vado lì comincio a schiappeggiare Lucy calma 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 cerco di allontanarlo vattene via è difficile infatti io rimango lì lo so che è difficile però ci dobbiamo infatti infatti io rimango lì faccio aspetta calma calma possiamo cioè è sconvolgente assolutamente però bisogna mantenere la calma in questi casi e non farsi prendere dal panico andiamo a cercare hai capito hai capito cosa c'è scritto c'è tutta la nostra vita c'è ci siamo noi le nostre famiglie c'è tutto quello che hai mai provato nella vita sai che cosa vuol dire chi sei tu chi sono io di tipo rimango lì gli strillo proprio cattivo crisi isterica con le lacrime approccio ma sono lacrime nel senso visto che c'è dubito anche su quello certo certo sono lacrime nel senso qualcosa scende dagli occhi robin nel frattempo tu vuoi raggiungere Catherine oppure mentre sento tutto quanto le gusti dietro con con Brandon eccetera io guardo guardo Catherine di là guardo dall'altra parte sento anche io questo senso di dovere di andare verso destra sì e verso sinistra cosa provo al momento soltanto un po' di stranezza perché senti qualcosa di chimico senti proprio odori chimici tipo la mia stanza era quell'altra io io vado verso destra eh allo diretto verso destra proprio ignoro completamente perché a questo punto praticamente quasi succede la stessa cosa quindi ti metti guardi Catherine ti metti a fianco e guardi no io lei non era a sinistra scusa mi avrei capito male no a destra scusa scusa no vuoi andare a sinistra pardon ho capito male sì a sinistra sento la puzza chimica e sento il discorso che devo andare di là sì no senti che devi andare a destra dove c'è Catherine ok però se vuoi puoi andare a sinistra sì no volevo andare dall'altra parte ok sì sì vai a sinistra e fai tipo un piccola stradina scendi un attimo delle scale e ti puoi tipo affacciare in queste scalinate tra virgolette e noti una stanza immensa a malapena illuminata da qualche luce scarsa con tipo tubi vasche immense qualcosa che bolle in queste vasche puzza e noti che c'è qualche figura che si sta muovendo tra le vasche e per quanto le poche ombre che che lasciano non sono cioè sono strane per te sono umani cioè sì magari è un umano un po' magro magari è un umano un po' piccolo la testa è un po' grossa però è un umano ok io vorrei camminare in mezzo alle vasche voglio voglio andare vedere ogni cosa da vicino impassibile possibile intanto mi tocco la frangia mi guardo la mano di nuovo ti muovi verso guardo le vasche ti muovi verso per scendere per andare verso le vasche e Lucy e Brandon stanno cercando di capire urlando emotivamente e sentite distintamente riaprirsi l'ascensore io vado fuori cioè corro fuori perché appunto i Lucy sono quelli più vicini ma Lucy è un po' stai correndo esci dalla porta e stai correndo e vedi per uscire dall'ascensore si chiude pian piano cammina in maniera tranquillissima e ti fa b v 20 a rapporto ti indica la strada tu ti blocchi e vai verso Katrin shit e niente continua a camminare passa la stanza dove c'è Lucy e fa l v 20 a rapporto e tu Lucy ti alzi e verso Katrin arriva al limite delle due stanze guarda un attimo in curiosità verso sinistra r v 20 a rapporto anche Robin si blocca io non l'ho vista vero non l'ho vista prima senti soltanto la voce che puoi riconoscere però sono comunque vedo attraverso i miei occhi tipo mentre cammino esatto 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 siete lì davanti a questo terminale si accende no è questo terminale scusate questo schermo si accende una luce eh sì una luce una voce che riecheggia in tutta la stanza e fa quindi il risultato siamo ancora distanti vera parla sì purtroppo anche questi sintetici sono proni alla paranoia sono ancora troppi emotivi e soprattutto a meno che non siano in uno stato di eh di coscienza non rispondono ai comandi hanno cercato effettivamente qualche informazione in più sugli umani su come gestirli e attirarli a vedere come possono sfruttare le loro paure ma sono preda stessa delle loro paure quindi anche questa versione è da scartare torna la voce riecheggiante capisco abbiamo ancora un po' di tempo vedremo di fare del nostro meglio per le prossime simulazioni e a quel punto in piano telecamera si sposta verso altre casse con su scritto B B 21 e il corpo di Brandon C B 21 il corpo di Catherine R B 21 il corpo di Robin L B 21 il corpo di Lucy vediamo un'altra versione ancora di Nessi vediamo un'altra versione ancora di Peter vediamo un'altra versione ancora di Charlie vediamo un'altra versione ancora grazie di follo. Vediamo un'altra versione ancora di persone che conoscete, di poliziotti standard, di persone normalissime per strada. Notate qualche versione molto più distante di qualche presidente, di qualche generale. Vedete il fumo che esce da questi container. Salire. E ritorniamo alla grata del tombino dell'altra volta. E qui chiudiamo la sessione. Io però avevo una domanda. Sì. Io non ero stata l'unica che non è stata chiamata a rapporto. E tu eri già... Ero in trans. Tu eri già... Tu eri già volontaria. Però non è stata chiamata. Sono andata lì seguendo... No, ma sei andata in trans nel momento in cui hai visto la... Ok. No, era quella la mia domanda. Eh, sì, sì. Questa era un pugno vera, l'avrei tirato. Onestamente, è vero? Come dire la questione da orecchie, grazie. A posto. Grazie a tutti per il raid. No, grazie mille, veramente. Scusate, ma stavo ancora sotto shock. Sì, sono tutto... Fabri, ti ho visto... Sì, abbastanza in panico. T'ho visto... Preoccupato fa... Flabbergast. Porca troia. Buon amore. Megoglioni. Megoglioni. Ti staviamo, tu sappi, no. Ok. Bella comunque. Grazie, grazie. Rimane che non ho capito se era... Se era quindi una simulazione... Sì. Ma non dimmelo, è più bello se non mi spieghi tutto. No, ma infatti il bello è anche un po' quello, lasciare il dubbio. Siamo sintetici e tutta una simulazione. Cioè, ovviamente ci hanno sostituito. Sì, sì, però non è così... Perché... Cioè, ci sono cose... Sì, sì. C'hanno sostituito da suoi, ma... Sì, 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 no, no, chiaro, chiaro. Può darsi che è da mesi o da chissà quanto. No, 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 ma... Sì, 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 no, no, ma... È chiaro, è chiaro. Figo. Però, scusa, perché... Cioè, ci hanno richiamati? Perché non stavate... Perché non stavamo funzionando. Esatto. Eravate troppo in paranoia. Non avevate più il comando. Ma perché eravamo in paranoia? Cioè, cosa è successo? Che vedevamo cose. Tutte quelle cose che vedevamo non erano... Non erano... E poi si è fateli. Troppo umani, diciamo, eh. Cioè, alcune... Il bello di questa sessione è il fatto che non è... Si ho capito bene, ma capitano, correggo. Vadi, vadi. Cioè... All'inizio, ero tanto confuso, no? Perché tutti quanti gli errori lì... Cioè, gli errori, le cose strane... Non erano frutto della simulazione, ma nostro. Che noi non funzionavamo. Esatto. E quello che non stavo... Perché c'erano tante cose... Dici, ma aspetta, ma fa che senso ha che... Ci rendevamo conto che quali altri fossero macchine. Certo. Figo. Figo. Quindi in realtà, tipo, la vista dei fari... Non era la simulazione che voleva... Eravate voi. Che figo. Cazzo. Comunque penso che sia o dal 62 o prima che stavano già facendo gli esperimenti. O dopo il 62. Sì. Infatti mi ero messo anche... Adesso ve lo posso anche dire quello che non avevo detto. Ma lo so, perché altro è quello che tocca il collegamento subito. C'era il First Contact, quindi appunto il caso di Roswell del 1947. C'era il MKUltra del 53. E poi c'era OC, che era appunto October Chrysler Armageddon, quindi la crisi dei missili di Cuba. Millennium Bug e poi Twin Tower del 2001. All'inizio MB, che già c'era nel futuro. Erano tutti i progetti che avevano... Erano tutti programmato. Sì, sì. E quindi... Ma questa l'hai proprio pensata a te. Complimenti. Grazie. Senti, ma... Ai grossi problemi, capitano, fattelo dire. Sì, ma profondo però, eh. Divertente, bello, interessante. Senti, ma... È vero che manca creare una difficoltà, è vero. Ah sì? No, molto figo, molto figo. Tanto per curiosità. Vadi, vadi. È molto figo, è molto figo anche così. È molto figo così. Tu hai per caso pensato, tipo, la possibilità che, tipo... Cioè, c'era un modo per i protagonisti di liberarsi della cosa? O non è quello... Magari non è quello il senso, perché d'altro è un finale troppo... Sì, diciamo che c'era Vera apposta per evitare che qualsiasi cosa che andaste troppo oltre, al massimo Vera vi richiamava, molto semplicemente. Sì, sì, immaginavo... Sì, sì, sì. Essendo anche una one shot, perché è fatta apposta. No, no, ma ha senso, ha senso. Ero curioso, ero curioso perché, cioè, è stato frustrante, però comprensibilmente, cioè, è ovvio che perché il personaggio stesso è frustrato, no? Quindi narrativamente, parlando ha senso, è stato veramente frustrante, cazzo. È stato tipo... Porca... Sì, volevo... E invece... Volevo parlare che poteva anche essere fatto... Ah, c'è quel bas... Scusate, eh, perché poi dopo ti viene... Quel maledetto di, per non dire altro, di andare sul volgare, di Galgash, c'è volata anche ancora più difficoltà, capito? Allora basta, Galgash, ero dei coglioni. Io avevo una domanda al master. Vadi, vadi. Ormai la sessione è finita, ok, ma se io avessi voluto potenzialmente usare l'ultimo Benny per provare a liberarmi da quella sorta di controllo... In realtà ti avrei fatto tipo... Alla Detroit. Sì, non ci saresti riuscita, ma avrei fatto tipo una scena dove la tua versione 21 si sarebbe mossa. Quindi già sarebbe già diventata... Sarebbe andata avanti, poi ricordi di tutto. Esatto. Figa, figa, figa. La mosca che è un sintone, però va bene così. Figo. C'era tutto, c'era. Visione virtuale, alieni, loop temporale... Texture. Texture, esatto, digitale, sì. Figo. All'inizio c'era la paranoia, quindi pensavo fossero fantasmi. Alla fine avevo ragione all'inizio. Non erano rettiliani, erano gli altri, però... Sì. Figo. No, finisci. Un bel droppo che sarebbe stato soddisfatto, dice Galgash, Giacomo. Dice, Ulf sarebbe stato soddisfatto, ha detto Galgash. Sì, infatti, cioè, io ero parito che non pensavo di fare il personaggio proprio tipo in quel modo lì. Però poi alla fine, mentre giocavo, pensavo, cazzo sto facendo... Ulf. Ulf rivisitato, praticamente. Sicuramente, però sì, sì. Sono cresciuto. Sono strafelice che vi siete. Anche perché, ammetto che non è una sessione, una one shot che ho pensato così all'improvviso, ma è una one shot che avevo in mente tipo da 5-6 anni. Quindi è per questo... Sì, è scritta bene. Sì, è scritta bene. Chissà quante volte l'hai scritta, ti sei aggiornato, sì. Bello, bello. Sì, poi... Mi coglioni. Sì, coerente con se stessa, che non è da poco. Sì. Giacomo Galgash dice che Ulf è Giacomo. No, in realtà no. Cioè, ovvio che in tutti i personaggi c'è un po', però... Poi sì, io sono un po' appassionato di queste cospirazioni, robe. Beh, ovvio, anche se non le avessi trattate fuori il tuo. Avevo visto quando, soprattutto... Però non sono esperto. Stavamo, stavamo lì e soprattutto, vabbè, da... Quando stavamo là sotto, avevo pensato un certo punto che c'erano due cose. O sì, qualcosa che c'erano sostituiti, oppure comunque tipo controllo mentale o roba del genere. Però ecco, a un certo punto, quando è cominciato... Vabbè, era palese quando è discorso sangue e non sangue, ho fatto ok, vabbè, è posto. Infatti, là non siamo noi. Per cercare di capire le cosine, però... Sì, io non sono stati d'aiuto. Avessi capito, sarei scappata via e me ne sarei andata. Io ve l'avevo detto, andiamo via! Io ve l'avevo detto, andiamo via! No, no, andiamo... Cioè, i film dell'orrore non li avete mai visti, praticamente. Sì, diciamo che... Il... Ancora, diciamo, parte della... Del poter fare qualcosa è pre le due porte finali. Quindi le due porte finali, o quando capisci che c'è tutto un piano dietro, oppure quando capisci che tutta la tua vita è già stata programmata, allora lì è già finale. Quindi io da lì in poi so già di portarvi a un certo tipo... Cioè, in realtà è lo stesso finale. Blocco le scelte da lì, per virgolette. Ma comunque non serviva in realtà... Cioè, nel senso, cosa che... Cioè, non che sia un genio, c'è una cosa che... Cioè, si intuiva che anche andandosene via... Sì. Cioè, non sarebbe servito un cazzo, perché a quel punto hai già realizzato l'inconsciamento meno che sei... Cioè, sei fottuto. Cioè, è inutile. Sei fottuto, punto. Cioè, enormemente. Applausoni, sì, sì. Applausoni. Bello, bello. Grazie davvero. Bello. Ho una domanda bella, però. Pali. Ne hai fatte parecchie di belle, vi dimmi so. Eh, lo so. Perché mi è piaciuto, già avevo capito, ho detto, ok, cerchiamo di far rendere conto al personaggio cosa sta succedendo in qualche modo. La domanda è se... Io comunque non ho visto la sala server, ok? Comunque ti dico cosa avrei fatto una volta andata nella sala server. Avrei cercato eventuali comandi che influenzassero eventuali controlli o altri che è sicuro, come qualunque software, c'è sempre la parola chiave. Comunque, bene o male, il mio personaggio aveva studiato informatica. Quindi, qualcosina, a prescindere da doveva sapere, avrei riprogrammato la mia vita in modo da eliminare eventuali paure, eventuali parole chiave e nel caso avrei simulato di seguire vera, sapendo dopo che sarebbe successo, di seguire vera a un certo punto o fare qualcosa con tutte le persone che abbiamo incontrato per azzerare i ricordi su di noi o comunque essere schermati fuori dalla rete. Cosa sarebbe successo? O togliere i capi della connessione? Sì, sì. Io cercavo di spaccarli apposta. Io cercavo di spaccarli apposta. programma le cose. Lo spirito da gamer che... Io non c'ho il mio personaggio. Io sono informatico, quindi penso... Iupamera è informatica, quindi ci penso a queste cose. Quindi, le perbole tettoniche sono loro che mi hanno fatto imparare stronzate. Che non è che sono... Ok, cosa sarebbe successo? Ero molto curioso. Allora... Se ce lo vuoi dire. No, no, sì, sì. Guarda, io sono sempre per i what if. Quindi, se tutto quello che volete sapere di una sessione finita, per me si può dire tranquillamente. Allora, il mio pensiero è che quella sala è fatta solo per lettura. Quindi è tipo una... Cioè, leggi semplicemente i dati che stanno analizzando, in poche parole. Beh, si può sempre accedere a una sola lettura. Probabilmente non l'avrei concesso, però con un buon tiro e soprattutto una buona interpretazione avrei lasciato rompere qualcosa. Quindi qualche server l'avrei lasciato rompere. E non credo che sarebbe cambiato così tanto, però magari se effettivamente sarebbe successo mi sarei inventato qualcosa. Tipo, appunto, magari avrei definito tipo un personaggio tipo diverso o... Che l'hai salvato nei seri. Esatto, esatto. Dica, dica. Una cosa che non ho capito è come mai la stanza con le informazioni era la mia stanza? Non era totalmente la tua stanza, però era in linea col tuo personaggio. Quindi siccome il tuo personaggio è, tra virgolette, come posso dire, complottista, tra virgolette, e gli ha trovato la realtà dei suoi complotti. Quindi, a livello pratico... Ah, ok, avevo capito. Ah, ok, ok. Quando hai detto è la tua stanza, nel senso che la senti come la tua stanza, l'avevo intuita come... Come la stanza del sintetico, tra virgolette. A un certo punto avevo cominciato a pensare robe tipo che... Questa qui era tipo... Boh, che era la mia stanza che dovevo lavorare qui dentro, tipo, avevo capito. Avevo interpretato male quella... No, no, ma è la tipica cosa della dualità. Cioè, è la stessa cosa del sangue. Cioè, ti senti che sei lì perché Robin pensa di essere lì, ma allo stesso tempo sei lì perché sei un sintetico e di conseguenza devi star lì. Ho capito. Però il sangue è normale, eh. Cioè, che cazzo gli costava? Solo qualche mano. Il prossimo personaggio non lo faccio con ispirazionista, giuro. Giuro. Comunque... Non so perché mi è uscito, ma che era una Europa normale. Se avete qualche domanda, chiedete, eh. Sì, sì, esatto. Non è incontrato, nel senso... Figo, figo. Sì, no, altrimenti piano piano andiamo a vedere anche fare qualche rider che comunque abbiamo fatto tardino. Però no, veramente... Sì, flabbergasted. Cioè, io a un certo punto stavo veramente... Anche perché poi il personaggio mio, sensibile, cose... Non è che è il genere del computer o quello che sia. A un certo punto ho fatto prendere dalle mutività proprio. Sì, sì. Ci sta. Ho uscito proprio di testa. Ci sta. Ci sono solo che mi sono trattenuta da provare a fare respiri profondi per vedere se sentivo il polmone che andava a toccare la cassa thoracica. Tante che volevo andare in profondità. Perché il personaggio si doveva accorgere di essere non reale e fare casino. Però non è successo, quindi ha seguito solo l'istinto. Anche il fatto del respiro che diceva Giacomo quando sono arrivato tardi da una cosa all'altra, mi recupero il vault. Poi che il finale mi ha preso parecchio e voglio vedere come è iniziato tutto. Nice. In tranquillità, come in tutti i film. Esatto. Così magari noti anche dettagli in più. Sì, sì. Che dire, grazie. Grazie, wow. Ah, è stato veramente piacere. Grazie, grazie, capitano. Preparate le altre. A proposito che poi tu a novembre hai la campagna... Una mini campagna, sì. Bene. Quindi vedremo, vedremo. Che figata. E ricordiamo che venerdì parte la... La tua campagna. La mia campagna, sì. La mia prima campagna su Twitch, sul canale. e D&D come gioco, ok? E avremo come giocatori Eternal, Miss Croft e altri due ospiti. Abbiamo Jacopo, il nostro Sourjack, e un altro ospite speciale. Che non sono io stavolta. Che non sarà, no, non è il Rebe, non è il Rebe. Io sono da un'altra parte. Ma praticamente ha detto Rebe che non voleva, perché la portavo io praticamente. Esatto, non volevo che masterassi Fabri. Quindi mi stava sabotando, quindi ha detto di no. Con me ha detto che non ci vuole giocare. Ho detto di sia a Kargash, però. Esatto. Comunque il master ha anche complimenti da una ragazza che purtroppo non può accedere a Discord. Cioè a Twitch, è una mia follower che mi fa i commenti, chiede a qualcuno di scrivere. Quindi mi ha scritto per tutta la live, molto carina. Ciao Erika, quindi, che ci sta ascoltando. Ciao Erika. E quindi ha fatto complimenti. Poi ti invio messaggi così che... Hai visto che belle sessioni che abbiamo qui? Hai visto che belle sessioni? Ma io l'ho sempre detto. Io l'ho sempre detto. Sì, sì, sì. Buon adesso, Miss, aspettiamo la tua campagna di cyberpunk. Sì, sì. Anche perché tu arriverai al passato e ho già pensato all'eventuale soluzione per... Aspettano tu entri, però in teoria dovresti già conoscere il personaggio di Perseo e quindi dovresti già sapere. È giustificato dal fatto che è un what if? E comunque era una one shot what if? Quindi è giusto per introdurre un po' l'ambientazione e l'incubo che comunque è una meccanica nuova e quindi è un po' complicata da introdurre. Il fatto che puoi manipolare la realtà se hai determinate condizioni. Adesso ricarico la domanda. Sì, a parte mi ha detto abbastanza fortuna. Sì, ti ha detto abbastanza fortuna. Perché altrimenti se il narratore ti desse i, tra virgolette, permessi potresti effettivamente materializzare senza tirare. Quindi è tanta roba. Comunque ho una domanda dal master da parte di Erika. Vadi, vadi. E leggi Calgrasci che cosa ha scritto poi. Esatto. Allora, chiede. Non era meglio qualcosa di ispirato negli anni trenta per qualcosa di horror? A pensare che sia voluto per i tempi. Sì. No, sarebbe stata perfetta farla in questo periodo secondo me. Scusa se ti ho preso la parola, però secondo me non vedo anno differente. No, l'ho detto in sessione zero che ovviamente era offline, quindi non si è visto, però volevo proprio mettere l'input del, della, tra virgolette, paranoia di internet. Mentre dei primi momenti di internet dove tutti scrivevano di tutto e nessuno sapeva che cosa effettivamente era vero. Quindi quella era la sensazione che volevo dare. Leggende metropolitane. Esatto, leggende metropolitane. In più, il 1999 è perfetto per il Millennium Bug che appunto era, non dico un purtine cardino, però era una cosa molto simpatica da mettere. E poi anni trenta troppo in là, era troppo, sì, come ha scritto Gargash, a parte che vai troppo sull'overcraft praticamente, poi che non è quello. Sì, no, ma poi secondo me proprio non c'entrava proprio niente e ad esempio con le tempi nostri, cioè vai sul telefono, già cominci a vedere cose. No, vabbè, è diverso. Cioè anni novanta, anni novanta è perfetto. E comunque sì, c'è la tecnologia, ma ancora proprio all'inizio stavo. Io mi ricordo che non è come adesso che qualsiasi cosa sei tutti connessi. Io ero là, Gandalf. Io ero. Ero là. Sì, esatto. Suonavo un po'. Suonavo un po'. Quando il coraggio dell'uomo inica. Scusa Fabio, non volevo darti del vextel, mi suonavo un po'. No, 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 è vero. Io mi ricordo. Io voglio dire solo una cosa. Mucca, no, sì. No, è stato fighissimo e soprattutto perché banalmente poteva anche non servire un manuale. Cioè le prove sono state giusto perché comunque può essere usato banalmente con qualsiasi cosa. Cioè è un'avventura che si può usare, escludendo D&D, ecco, ok, andiamo proprio ad esclusione. Però sì, poteva essere anche fatto tranquillamente senza manuale. Sì, abbiamo usato 7Word ma praticamente nulla del manuale. Per prassi, nel senso perché c'era un manuale da usare. Però questo lo dico solo per ricordarvi che il gioco di ruolo non è manuale, non è regole. È giocare di ruolo, quindi interpretare. Lo dico perché molte persone a volte non lo capiscono sotto un certo aspetto. È un discorso un po' complesso. No, no, però non serve per forza un manuale per andare a giocare di ruolo. Infatti io volevo dire una cosa, l'ho detto in pausa mentre eravamo tutto spaiati. Però veramente vi devo ringraziare perché è stato un party bellissimo. Soprattutto la parte iniziale dove vi siete proprio animati, avete fatto notare il vostro personaggio, eccetera, eccetera. Siete stati veramente incredibili in questo. Quindi è stato ancora più un piacere farvi, tra virgolette, impazzire di paranoia per ogni singola cosa. Quindi è stato bello anche questo. Ti odiamo, tranquilla, tranquilla. E io, vabbè, devo dire, con Fabrizio ormai abbiamo giocato un bel po' di volte, ormai. Con Giacomo abbiamo fatto solo una one shot su Fabula. Sì, su Fabula Ultima. E con me se non l'avevo mai giocato, non ci giocherò mai più. Ah, non ti hai capito. Aspettando che ve lo posso, ma ancora. No, no, scherzo. No, mi sono divertito. Vabbè, Eterno l'ho già avuto come master. Abbiamo giocato varie volte insieme. Quindi ero tranquillo. Però appunto, vabbè, è stata una figata e si riconferma Eterno l'ho. Un grandissimo master. Un grande creatore di storie. Fatto proprio una roba... Cioè, io ero lì che ci pensavo oggi. Cioè, ma che cazzo giochiamo stasera? Che cazzo andiamo a giocare? E non mi sarei mai immaginato una roba del genere. Quindi, zero proprio. Anch'io sono venuto senza aspettative. Poi io sono abbastanza schizzinoso con le storie. Era proprio molto coerente. Era molto coerente. Ultima cosa, ultima cosa proprio. Non so. Ah, dice Kargash. Poi magari ne parliamo domani. Sì, sì, domani. Domani c'è la taverna, facciamo talk. Dove parliamo di qualsiasi cosa e parleremo probabilmente magari anche di questo. Sì, e poi voglio dire anche una cosa, che c'è la musica, c'è tipo qualcosa di spiritico, perché cascava sempre il boom boom, e il cambio, e il boom boom. Sempre. Quello è stato incredibile, nemmeno troppo voluto, nel senso che ho detto, vabbè, c'è un'ora e qualcosa di musica tranquilla, e poi parte il resto. Ho detto, al massimo la faccio repeat, e poi per qualche motivo mi sono dimenticato e partita nel momento perfetto. È stato incredibile. No, ma anche tu non te ne sei accorto, ma in alcuni momenti, quando scrivi le cose, o quando succedevano le cose, che c'era il boom boom. Sì, sì, no, non mi... E proprio il momento giusto. C'è incredibile. Infatti, ad un certo punto, lì lo facciamo notare, basta, ok, basta, lo notiamo e basta, perché è bellissimo. Sì, sì, no, infatti io penso stato citto, perché... Infatti, in tutto questo, io mi sono unita all'ultimo, la sessione, perché era rimasto il dubbio di dove stessi partecipare. Sono entrata su Discord, posso, devo? Ok, se sei più comodo così, a posto. Sì, sì, eravamo su Discord, dovevamo giocare in tre, e ad un certo punto è entrata a Discord, quindi ho detto, non mi ricordo come c'era il discorso, ad un certo punto mi sono girato e ho detto, no, ormai sei qua, gioca, cioè nel senso, ormai sei qui. Sì, esatto. Hello. Cagrash dice, sì, madonna, penso che avessi fatto un lavoro enorme di ricerca di musica, ovviamente. Il problema è che... Ebbè, due host, eh? No, sì, sono due host, e il problema è che io l'avevo fatta la ricerca immensa, perfetta, eccetera, eccetera, e poi all'ultimo mi sono detto, ok, adesso devo mettere i codi, cioè le varie cose per dire, questo è copyright free, eccetera, eccetera, poi vado a vedere, non c'è scritto niente, e dico, ok, questo è copyright free o no, perché c'è scritto, ma non c'è scritto che cosa devo fare. Oh merda, cambiamo! E quindi ha il panico all'ultimo di trovarle... Hai avuto paranoia? Sì! Sono entrato nel mood, sono entrato nel mood. alle sei di pomeriggio a trovare delle alternative copyright free. Ok. Comunque... Dai! La grafica l'ho fatta io. Ah, è vero, sì, ringraziamo il nostro rebe, grande rebe, bravo rebe. Io mi diverto a fare queste robe, quindi se volete... Gratis se le faccio, perché mi diverto, è proprio un divertimento per me, quindi... È buono a sapere, sì, ma appunto... Sì, 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 tutto Twitch l'ha detto è gratis, andate... Sì, sì, tutto Twitch, tutto Twitch. Vedete qui che adattate le bebe. No, esatto, cioè, se volete io lo faccio per divertimento, mi date il mood, l'ambientazione, vi do la grafica, ce l'aggiustiamo insieme, poi ce la guardiamo. Quindi se avete voglia, io mi diverto a fare queste robe, perché non è che posso farle 800 per il mio canale, perché porto una campagna ogni tot e non è che posso... Non è un tipo mai che porto 500.000 giochi diversi, o lo sbatti di crearvele, incredibilmente. Anche io avevo la Polaroid, io avevo quella che scivava la polo. Anche io? Anche io. Voi non sapete neanche che cos'è, me sa... Sì, che sono la Polaroid o qualche troppo, sì. Sì, ci sta anche adesso che sono digitali. Ma sì, dai, è un vecchio frigo che... Io ne ho un originale, mi stiamo da qualche parte, tranquillo. No, non lo è, no. Quindi le musicassette, voi non sapete che cosa sono, la biazza, la biazza, la biazza. No, aspetta, no. Io le musicassette, a posto dei cd avevo quello, fino a tipo... alla Cresima. Perché mi dicevo, tu puoi sentire gli audiolibri che erano in cassette ai tempi. Ma sì, ma li usavano i flinch, non lo so cosa sono. L'unico motivo per cui avevi una penna, tra l'altro. Infatti una volta me la volevo comprà, proprio in ricordo. La Polaroid adesso. Però non è la stessa cosa, non c'è soddisfazione. Ne potevi fare 12, ne potevi fare 12, tipo solo di foto, basta, poi cambiavi. Comunque mi ha fatto morire da ridere quando Robin, cioè già comunque ha detto fuori Toy Story e Miskop è andata a controllare l'anno di uscita di Toy Story. No, ma giusto. Sì, è giusto. Sì, sì, no, 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 è lecitissimo. Però mi ha fatto un sacco ridere perché a un certo punto, eh, Toy Story, avete visto Toy Story? E vedi, Miskop si fa. E lei, guarda e fa. A parte che ho preso punti. A parte che ho preso punti, ma in realtà più che altro so che bene o male, da quanto lo conosco, so che ci rimanerebbe molto male se avesse preso cose fuori anno. Quindi ho cercato per evitare casini. No, no, ho detto alcune cose le controllate, le controllavo durante la cosa, altre cose le sapevo. Eh, ma perché a me si sente la meccanica, è più leale. Devo mutare la meccanica. Ma tra l'altro anch'io ho controllato una cosa perché non mi ricordavo, quindi fa conto te, quindi anche nella mia sessione ho dovuto controllare una cosa che non ho detto. Ma ci sta la fine, basta non fare metà. Giacomo Cargrasce ti ha minacciato, ha detto che se continui così non ti fa partecipare alla seconda stagione al seguito di Transform the Loop. Perché? Così come? Non ho capito. Ti invecchi per tutte le battaglie. Ma io sto cucendo su quello che dici te, mica. No, no, sto scherzando, sto scherzando. Poi lo so che Cargrasce è vecchio, non è che... No, allora a posto. Guarda, poi a lui non gli tocca il discorso delle dark, eh, Cargrasce? Ma poi ragazzi, a Cargrasce che corre, corre, fa fare... Sì, esatto, infatti poi è più il giorno di tutti noi messi insieme. Ho lasciato, ragazzi, mi alzo dal letto, ma state scherzando? Posso saperchere? Sì, c'è. Adesso non sollevare neanche un'opinione, tra un po'. Mi disintegra Fabio, Cargrasce mi disintegra se... A voglia. Sicuro che mi batte in te. Usa ma lo sguardo. Ragazzi, potete andare a fare un rai. Ragazzi, potete andare a fare un rai.